ma adesso sta aspettando l'azione proprio per... Io penso che non puoi permetterti di giocare con le mani basse e fare con il busto con un avversario come Cannone, il pugile della Renato Costantini è un atleta di grande temperamento, molto veloce Per questo primo round nel finale c'è stato un ritorno di Tommaso Cannone ma forse perché ha avuto un atteggiamento abbastanza disinvolto, forse troppo Salvatore attrattivo però diciamo che per i due terzi della ripresa attrattivo ha messo qualche colpo in più quindi possiamo dire che questo primo round se l'è aggiudicata attenzione perché Cannone è un pugile che tiene fino alla fine non a caso molte volte ha vinto anche in rimonda quindi non è tutto facile Poi Cannone vedo che è bello tranquillo all'angolo senza proprio anche con bocca chiusa cioè senza avere quell'affanno della ripresa che ha fatto che ha fatto una ripresa molto attiva ma mentre attrattivo ha fatto una difesa attiva e ha sempre replicato l'attacco del suo avversario Ancora diciamo una buona scelta di tempo però non deve buttarsi in avanti dice l'arbitro la signora Giussi Marino ancora questo atteggiamento di mani basse è pericoloso rischia moltissimo attrattivo bravo comunque Cannone invece a cercare sempre il punto di impatto quando però prova l'azione bellissimo questo due volte il gancio destro di attrattivo veramente diciamo ha una buona scelta di tempo non comprendiamo perché questi sprazzi di disattenzione ancora una bella uscita con colpo da parte di attrattivo Cannone è sempre lì pronto a rituzzare è sempre attento però attrattivo quando ha voluto mettere le azioni le ha messe evidenti e sicure sono due bugini molto sicuri dei propri mezzi lamenta qualche colpo dietro la nuca attrattivo che per la verità io non è che no no ma poi lo sai sono sono tutti sono tutti talmente veloci nei colpi che poi si girano in automatico ma quello viene distinto no di mettere i colpi non è che non è diretto c'è questo bel movimento a dondolare sotto i colpi di Cannone poi entra con il gancio destro o sinistro ancora diciamo adesso è stato attrattivo ma si è girato Cannone e non l'ha fatto posto dai ecco vediamo che finalmente anche dall'angolo il maestro Esposito è in vita attrattiva ad alzare le mani certo certo parte attrattivo con un timido destro poi di nuovo il gancio è nei ganci la differenza adesso c'è un abbraccio è quasi una presa da lotta però comprendiamo certo la tensione ancora il bel sinistro di attrattivo sì sono di attrattivo i colpi più precisi difetta in precisione Cannone lascia troppo l'iniziativa adesso c'è stato un bel gancio destro di Cannone un bel montante ultimi dieci secondi anche di questa seconda ripresa diciamo un po' più da fare in questa seconda ripresa la signora Marino molto attenta molto attenta la signora Marino per per quanto riguarda diciamo quelle piccole scolettezze abbiamo visto anche una bella capacità di scernimentale da parte di questa arbitra siciliana nel senso che qualche volta con qualche guarda diciamo abbraccio di troppo ha saputo gestire bravo bravo perché in queste categorie è molto difficile gestire il match comunque sì ci sono queste piccole tra tutti e due tra tutti e due gli atriti tra l'angolo burro e l'angolo rosso ci sono queste piccole differenze che quando poi metti i colpi a trattivo praticamente sono evidenti e effettivi mentre Cannone li mette vanno anche a segno ma sono meno sono più leggeri si vede che sono non sono proprio tirati come si deve c'è anche il numero minore c'è anche il numero minore certo certo terza ed ultima ripresa per assegnare questo titolo italiano jutt nei 48 kg giornata completamente estiva qui a copertino c'è il sole che dalle vetrate ci batte proprio diciamo sugli occhi sugli occhi non ci consente a tratti di vedere nitidamente il ring ecco sinistro destro di attrattivo proprio una reazione Cannone me Cannone è piaciuto di più nella prima ripresa nella seconda forse si è nervosito si è nervosito perché magari ha avuto ha avuto quattro tre o quattro anticipi di di attrattivo quando quando poi lo stava attaccando però ecco quando si mettono alle azioni io vedo che ci sono due differenze sono uguali nello stesso tempo a mettere azioni però una è più quella di attrattivo sono quelle un po' più adesso adesso invece è il senso opposto sì è stato è stato richiamato verbalmente Cannone per via di non spingere ah non era non era richiamo ufficiale no 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 è stato verbale sì poi giustamente ancora il bel gancio sinistro di attrattivo si abbassa un po' troppo l'attrattivo in questa fase c'è un po' di nervosismo eh che ovviamente siamo anche diciamo diciamo a un minuto dal termine è una finale si ci gioca il titolo che cavolo non che gli altri incontri non siano stati diciamo presi seriamente adesso Braham Cannone a tenere fermo attrattivo all'angolo che non riesce a uscire si aiuta con un pizzico di esperienza attrattivo porta la porta proprio esce e porta l'avversario via prova ancora a partire da lontano ecco questa diciamo è un'azione che non è secondo me nel repartorio tecnico di attrattivo quello lì di partire con il colpo da lontano lui è velocissimo nella media distanza ancora il bel destro di attrattivo quindi come dicevamo proprio diciamo si vede a distanza giusta come dici tu a giusta misura il colpo arriva ben affondato gaggio sinistro ultimi dieci secondi scanditi Cannone tenda l'ultimo assalto Cannone tenda l'ultimo assalto adesso gli fa certo gli fa il richiamo diciamo lo aveva già avvertito esatto ma gli ha corso dietro gli restope e non ha ascoltato non c'era bisogno di questo richiamo ufficiale ormai attrattivo aveva praticamente legittimato la sua vittoria poi vedi bello l'abbraccio con il bacio è certo alla fine di tutto anche il maestro Costantino è certo diciamo giustamente sono arrivati in finale gli avversari i due diciamo fuggili più in forma attrattivo ha subito messo in chiaro le cose nelle prime due riprese poi è stato diciamo Cannone bravo qualche volta a rientrare però il maggior numero di colpi lo ha messi attrattivo quindi attrattivo porta a casa il titolo di campione italiano JUT due anni fa è stato campione italiano junior sperando anche che acquisito un po' più di disciplina per riconquistare la maglia azzurra anche se il secondo anno JUT quindi l'anno prossimo sarà Elite Under 22 in una categoria che effettivamente come hai detto tu ad inizio telecronaca c'è bisogno anche di avere qualche elemento in più nelle categorie piccole quelle grandi sono quello che abbiamo cerchiamo di tenerlo e di di portarlo avanti anche se poi hanno perso oppure che ha finito anche è arrivato terzo e via però bisogna tenere sempre quindi Salvatore attrattivo è il campione italiano dei 48 chilogrammi io mi avvicino alla postazione al parterre della premiazione ti lascio momentaneamente tranquillo e quindi ci prepariamo a seguire la premiazione a vedere anche ascoltare le impressioni di attrattivo del suo maestro eccoci in postazione e premiazione attrattivo e cannone sta premiando il presidente del comitato regionale Lazio Adrio Zanoni la sfida era fra Campania e Lazio ecco adesso che è attrattivo indossa la canotta tricolore poi ovviamente ci sarà anche la medaglia d'oro per Salvatore attrattivo un abbraccio l'attestato di partecipazione la foto ricordo la foto ricordo per eccoci pronto grazie al presidente Zanoni rieccoci qui con Salvatore attrattivo chiamiamo anche il maestro esposito se si mette da quest'altro lato per piacere Salvatore diciamo un anno sabbatico possiamo dire hai dovuto fare i conti con problemi di studio con altri impegni e due anni fa il titolo di campione italiano junior poi appena ripreso subito al campionato adesso arriva anche questo titolo youth secondo niente vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno sopportato fino ad oggi hanno sempre creduto in me non so più cosa dire senza parole una dedica speciale la dobbiamo fare perché dobbiamo dire grazie anche a papà Vincenzo che ti ha seguito fin qui non c'era bisogno che lo dobbiamo dire non c'era per niente bisogno e ringrazio pure a tutte le persone che mi stanno vedendo al mio amico Jenny maestro Esposito una bella soddisfazione lei di titoli ne ha vinti con i suoi allievi però questo è un momento importante perché ritornare su un podio con un titolo italiano è una bella soddisfazione soprattutto con l'allievo preferito ha detto bene perché l'allievo preferito è il più caparbio il più cozzuto e mira l'obiettivo e lo raggiunge adesso il maestro Valerio Esposito il professor Valerio Esposito mi scusi se l'ho limitata solo al maestro veramente avete preparato questo campionato e l'avete fatto diciamo consapevoli di dover puntare esclusivamente alla vittoria e vittoria è arrivata assolutamente sì l'obiettivo minimo era quello di arrivare sul gradino più alto del podio e ci siamo riusciti Sabaturo ha lavorato bene siamo contenti così grazie buon rientro complimenti ancora Salvatore alla prossima rieccoci di nuovo in postazione per la finale dei 51 chilogrammi 51 chilogrammi l'arbitro e la signora Alessandra Violetta comitato regionale Toscana all'angolo rosso c'è Matteo Lostia della Sardegna all'angolo blu il laziale Filippo Seca che incontro ha iniziato Maurizio? è iniziato subito attivo molto molto acceso comunque ha fatto sta facendo molto bene Seca che lo tiene tiene il suo avversario sempre lì in attenzione sono due anche due fisici diversi però ancora non hanno fatto ancora niente di comunque si muove molto bene Seca essendo anche un tecnico si sposta destra e sinistra è un po' più alto Seca quindi giustamente può contare sull'allungo peggiore e Lostia cerca di accorciargli la strada perché deve lavorare poi sicuramente al corpo a corpo perché dovrebbe fare una media e corta distanza se sta a lunga distanza viene fregato e viene controllato da dall'Ostia Prova adesso Seca ad allungare il suo destro risponde molto bene invece Lostia che passa sotto il colpo e mette a sua volta il destro poi ovviamente chiede scusa per aver abbassato un po' troppo la testa Diciamo sono fasi alternate queste due tra le azioni attacchi e controattacchi non sempre trovano la misura giusta Esatto però quello che ha fatto un po' di più neanche nel modo di di gestire un po' il match di pressare un po' la situazione è stato Lostia Sì ha finito anche lui anche se non ha fatto tante cose però ha sempre pressato l'avversario però ecco per me si è comportato molto bene anche Seca Naturalmente siamo una finale i pugili che stanno si stanno confrontando sul ring hanno dovuto superare turni preliminari quarti e semifinale per cui è naturale che come avevi detto tu al primo giorno vedremo sempre crescere il livello esatto ed è naturale che sia così vediamo questa seconda ripresa nella prima ripresa concordo con Maurizio Stecca probabilmente l'ostia ha messo qualche colpo in più e anche qualche azione in più adesso è iniziata la seconda ripresa con i pugili che si studiano secondo me fanno un errore partono da lontano senza avere la misura quindi fanno solo vuoto praticamente non trovano ancora devono trovare lo spazio la misura giusta lo stia che è partito subito è andato a segno con un bel sinistro cercato di doppiarlo con il destro ma non è andato molto preciso di nuovo ancora questo tentativo un po' troppo da lontano ogni tanto ogni tanto ecco lo stia parte con la sua azione è bello esatto ma non può prendere ancora ancora questi adesso sono colpi questi che fanno la differenza certo certo e poi naturalmente c'è anche questa presa di coscienza di trovare il colpo ben assestato adesso c'è uno scarico molto bello di Filippo Seca anche anche se lo stia va indietro no va indietro però ha sempre quella reazione di mettere quel colpo visibile no sempre quel gancio ecco quel gancio destro da sopra però diciamo anche se poi viene attaccato da da Seca ma Seca deve lavorare di più un bel movimento Seca costruisce bene però non trova la distanza bravo per il punto di impatto esatto esatto vedi anche adesso ha provato questo destro ma lontano invece c'è subito la reazione lo stia ha già la misura bello adesso il gancio destro di Seca poi è di nuovo lo stia che tenta un attacco deve tenere la testa alta di nuovo questo diciamo piccolo non voglio dire difetto piccolo gancho gancho adesso largo di lo stia gancho sopra al suo al sinistro di Codi ancora il bel destro di lo stia sta mettendo pochissimi colpi però sono quelli che sono quelli che poi vanno a segno sì no no io dicevo Seca sta mettendo diciamo pochissimi colpi lo stia sta trovando quasi sempre l'impatto o con il colpo singolo o con il doppio colpo visto che quando Seca vuole mettere la sua azione i suoi colpi è lì ancora è incerto come metterli o va o va a segno oppure tira in leggerezza e in larghezza i suoi colpi finisce anche questa seconda ripresa questa seconda ripresa mi sembra addirittura più netto sì perché ha fatto il predominio di lo stia Maurizio sì ha fatto più attività e poi i colpi che ha messo la maggior parte più dalla maggior parte sono dati sono dati a segno ecco deve fare qualcosina di più Filippo Seca all'angolo blu diciamo si vede che ha dei buoni fondamentali lui parte molto bene però è indeciso però non trova la distanza giusta non ha trovato male a misura i suoi colpi ben preparati però è quasi diciamo un vuoto perché il colpo non arriva a segno mentre mentre lo stia è più concreto è più concreto che quando poi metti i colpi vanno a segno terza ed ultima ripresa in palio il titolo italiano youth dei 51 kg edizione 2003 qui in questa splendida cornice del palazzetto dello sport di San Giuseppe da Copertino l'organizzazione è della Bebox del maestro Francesco Stefani naturalmente con l'indizione della federazione pugilistica italiana dobbiamo dire che è diciamo bella la macchina organizzativa qui con ormai come tutte le chiamano nell'ambito del mondo del pugilato italiano le quattro sorelle Gabriella Reier Nicoletta Perale Giulia Mascoli e Susanna Gargano adesso sta provando a gestire ecco adesso invece è stato bravo Sì adesso ha fatto una bella una bella azione d'attacco anche ben coordinata poi c'è il solito gancio destro di Lostia bella questa schivata di Lostia molto bella come movimento certo sarebbe stata perfetta se fosse rientrata e avesse messo esatto il gancio sinistro però anche qui diciamo sono atleti youth bello ancora ha finto e ha fintato è andato a prenderlo a lunga distanza con quel destro lungo poi ha allungato bene il destro ancora un bella l'uscita due volte con il gancio destro adesso è gancio d'incontro sì bellissimo questo gancio ma tanto prima o poi doveva succedere lo aveva provato due volte due tre volte era andato a segno però con l'attacco di di seca si è scoperto e gli è incastrato il gancio il gancio largo il gancio destro largo era preso d'incontro perché c'è cascato seca però nonostante il conteggio e il colpo si è scoperto ancora orgoglio per chiudere a testa alta questa sua finale qui a San Giuseppe di Copertino ultime battute ultime battute anche di questo secondo incontro di questa seconda finale qui in questi campionati italiani youth edizione 2023 trova ancora la forza seca di mettere un bel gancio destro finisce questo incontro anche in questa terza ripresa io ho visto lo stia fare qualche cosina in più il saluto agli arbitri aspettiamo la programmazione poi seguiremo la premiazione diciamo che c'è poca sospenza oggi sono diretti bene poi si vede anche per adesso per i i due verdetti che ci sono stati eccolo qui quindi Matteo Lostia è il nuovo campione italiano nella categoria dei 51 chilogrammi Maurizio io ti chiedo scusa vado nel parterre della premiazione per seguire le interviste eccoci in postazione per seguire la premiazione del finale dei 51 chilogrammi a consegnare medaglia d'oro e medaglia d'argento e il presidente onorario della federazione pugilistica italiana nonché coordinatore della ctn vittorio lai vittorio lai che con franco falcinelli con franco falcinelli diciamo sono i due grandi saggi della box italiana commosso sommosso commosso l'ostia c'è soddisfazione anche commosione ha detto una bella frase dopo ve la ripeto ve la chiederemo adesso facciamo anche la foto con il maestro un bel ricordo eccoci qui grazie per la foto ancora anche i gadget offerti dalla be box il sorriso di vittorio lai dice te l'avevo previsto stamattina eccoci qua adesso ascoltiamo noi grazie grazie presidente ecco hai detto adesso finalmente mi conoscono anche oltre la sardegna in sardegna mi pensano poco questo non è un modo di lamentarsi ma soprattutto per dire adesso sono il campione adesso sono il campione italiano quindi tenetemi in considerazione sempre bisogna crederci ringrazio Gregorio il mio natore quando torno in sardegna ti porto a donne come ti ho promesso saluto la mia fidanzata e tutta la mia famiglia viva la sardegna grazie bello molto deciso resta un attimo con noi maestro è arrivato qui giustamente il ragazzino con buone credenziali torna a casa con il titolo possiamo dire missione compiuta missione compiuta anche perché io ce l'ho in adozione per portarlo in questi campionati ci siamo conosciuti in questi campionati con Matteo abbiamo stretto subito l'intesa grazie al lavoro fatto con Gregorio con Gregorio che collabora molto con noi ci abbiamo creduto il ragazzo ascolta per fortuna ha messo in pratica tutto quello che volevamo e ci ha portato l'oro abbiamo cambiato colore a ogni match dopo match non ci bastava abbiamo abbiamo costruito questo salutiamo salutiamo Gregorio molto emozionato e adesso ti facciamo andare a godere questa vittoria in bocca al lupo buon rientro nella magica sardegna grazie mille arrivederci a tutti dopo aver raccolto le emozioni l'ostia Matteo l'ostia adesso stiamo seguendo la finale di 54 kg Maurizio ah niente guarda non ho ancora avuto il tempo di parlare notare però è iniziato veramente bene veramente bene nell'incontro che che l'angolo l'angolo rosso Spano ha subito individuato come mettere i colpi al suo avversario Campanile ma Campanile ancora deve deve riprendersi un attimino dalla foga che gli sta mettendo dal ritmo che ha messo Francesco Spano appunto Francesco Spano laziale all'angolo rosso Dario Campanile Emiliano è all'angolo blu l'arbitro è il signor Ciro Di Marzo Ciro Di Marzo da Cellole in provincia di Caserta però lavora per servizio in Lombardia quindi è gag della Lombardia anche lui è un arbitro che abbiamo visto spesso nei tornei uno diciamo degli arbitri di punta del Cesag Ciro di Marzo intanto adesso seguiamo Dario Campanile che cerca di mettere alle corde il suo avversario adesso ha un po' rallentato Spano anche essendo poi guardia mancina riesce un po' a gestire bene la posizione del suo avversario adesso è un po' calato perché gli ha fatto un'azione proprio di quasi un minuto quasi due minuti di lavoro e nell'ultimo minuto è cominciato a calare però ha sempre tenuto a testa alta questa ripresa doppiamente a tratti dobbiamo dire molte volte noi diciamo sai ci ricordiamo i maestri però per il primo minuto a me mi è sembrato di rivedere la grinta di Ottavio Barone il suo maestro che è all'angolo di Francesco spano infatti come è partito l'allievo non ha non ha detto una parola guardava solo quello che stava quello che stava eseguendo il suo allievo comunque comunque nel finale è rientrato è rientrato è calato pena pena però ancora Campanile devi inquadrarlo non ha non l'ha inquadrato ancora no le azioni salienti nei primi due minuti sono state essendo poi un mancino spano bisogna attaccarlo non bisogna dargli non bisogna dargli lo spazio perché se gli dai la possibilità di fare un po' quello che vuole sul mancino il mancino prevale sempre anche come posizione di guardia questo lo dico sempre perché ci sono anche delle scuole proprio posta per la scuola proprio degli schemi per addestrare la box sul mancino quando facevi anche nei tuoi convegni nei tuoi stage tutto spieghi diciamo molto la differenza tra tattica e strategia uno la tattica ce l'ha la strategia poi l'attual momento bella questa azione in velocità ancora sinistro destro di Spano ma adesso che c'è la lì Campanile deve mettere i colpi perché all'angolo non può uscire Spano invece è uscito ha messo i colpi no ma nonostante fosse in una condizione diciamo di difesa è stato lui che ha messo i colpi certo molto veloce nel piazzare i colpi bello adesso il sinistro di Campanile però è solo questo colpo si prova Campanile effettivamente dovrebbe rendere più veloce la propria azione e si e poi e poi caricare bene ecco bellissimo adesso gli ha messo esatto adesso gli ha messo bene quel gancio cavolo ma adesso che è entrato devi insistere una volta che poi ha le corde Spano ma Spano si sta difendendo bene ripeto bella questa questa azione perché nonostante sembra essere in posizione remissiva riesce a reagire molto bene gancio eccolo gancio gancio sinistro di Spano che è uscito bella il gancio sinistro e poi ha messo il montante destro Spano però diciamo questo Campanile non sta facendo un passo indietro dovrebbe solo concludere gli attacchi in maniera più rapida e veloce perché Spano è abile a rimettere i golpi anche se lui gli si pone davanti in maniera molto aggressiva anche in pressing e gli fa quel gioco di tronco che è quello che gli rende a Spano quello che gli rende di più il gioco del tronco ha le corde di spostarsi avanti indietro e allora Campanile non va a segno lo porta fuori misura ecco qua ecco e Campanile subisce l'azione del suo avversario e gli fa il gioco entrare e uscire entrare e uscire ha cambiato un po' strategia Spano rispetto al primo round adesso sta facendo sebbene abbia lasciato l'iniziativa a Dario Campanile però è sempre lui che fa l'azione e che chiude l'azione quindi anche in questa seconda ripresa a mio parere Francesco Spano ha fatto più azioni ha messo anche più colpi quindi io direi che sono due riprese a favore di Spano si è molto molto più libero adesso è solo un miracolo una grande terza ripresa grandissima terza ripresa da parte di Dario Campanile potrebbe sovvertire quello che è il vantaggio quello che abbiamo guardato è che Spano che potrebbe gestire bene il centro ring tra la prima e la seconda ripresa è riuscito a mettere più colpi possibili alle corde ed essere poi attaccato vuol dire che se lui è attaccato vuol dire che lui riesce meglio a fare questa entrare riuscire entrare riuscire mettendo i colpi del suo gioco principale è quello che gli piace sicuro quello che gli viene di più è quello che gli viene meglio perché anche magari stare centrale c'è un po' la situazione quando lui arriva alle corde e sta alle corde è il lavoro che fa di più ecco e che gli va più a genio come sta facendo adesso ma diciamo che Francesco Spano mi sta dando una buona impressione perché sta a boxare sia in movimento che da fermo e anche da fermo sì anche se il campanile comunque non è tutt'altro che uno sprovveduto eh no eh no perché continua ad andare avanti secondo me l'unico la differenza sta nel fatto che ecco adesso invece lo sta facendo nel senso che quando si trova di fronte mette qualche colpo in più deve fare azione deve lavorare come dite voi nel vostro gioco e lavorare duro duro in quel caso lì non appoggiare i colpi eh adesso c'è ecco bello adesso questo montante destro di Spano gli aveva già tirato due sinistri dritti gli aveva già sono questi i colpi che fanno i punteggi e la differenza ancora ancora prende il tempo con il sinistro diretto Campanile è sempre lì pronto a a pressare però adesso ha qualche difficoltà anche a trovare il bersaglio Campanile Spano diciamo si muove molto bene ancora il gaccio destro in uscita sinistro diretto di di Spano due volte si adesso lo diciamo no no ormai gli ha preso bene il tempo in misura adesso Spano quindi sta veramente accademizzando possiamo dire ma certo dopo viene viene spontanea la cosa una volta che tu hai una tua situazione anche di guardie di colpi in automatico viene fuori anche ecco tutto adesso si può anche rilassare non usiamo questo termine perché è un po' antipatico un pugile non si rilassa no mai mai perché è il momento che poi prendi però ecco ti porta un po' più di sicurezza nel movimento nel mettere colpi perché sai che vanno bene ancora due volte con il sinistro comunque c'è da fare i compriventi a Campanile perché ancora adesso ha messo questo bel destro diciamo fino alla fine sta cercando di attaccare incassa questo gancio destro di Spanu nessuno dei due ha mollato fino alla fine chi per un verso chi per un altro Francesco Spanu ha voluto questo titolo ha voluto questa vittoria adesso aspettiamo il verdetto ho tre riprese per Spanu io sul mio cartellino ho sbirciato questa volta anche quello di Maurizio Stecca ci troviamo sì poi è evidente la cosa c'è stata sì c'è stato sulle scuole diverse due stili diversi però quello che ha lavorato di più ecco la programmazione vince all'angolo rosso Francesco Spanu molto sportivo Ottavio Barone ha salutato l'avversario del suo ragazzo Dario Campanile adesso aspettiamo che gli atleti raggiungono il parterre della premiazione lo ha già raggiunto lo ha già raggiunto Francesco Damiani che procederà alla premiazione io m'accingo a raggiungere il parterre ecco Francesco Damiani che molto diciamo ironicamente ha detto a Spanu ti ha fatto sudare sempre una bella carica di simpatia quella del maestro Damiani vi ricordo tecnico proprio della nazionale youth ecco la foto ricordo anche i gadget per tutti e due i ragazzi mi raccomando Francesco ecco la foto ricordo grazie grazie aspetta Francesco aspettiamo anche il tuo maestro come si chiama il tuo maestro non lo conosco tanto bene prego ciao Ottavio abbiamo detto ha iniziato l'incontro con quegli scatti che erano tipici tuoi quindi dobbiamo dire che effettivamente ha preso molto e ti ha dato questa bella soddisfazione tantissima soddisfazione tanti sacrifici sono stati ripagati poi lui segue i miei esempi i miei sacrifici i miei consigli quindi è un ragazzo che merita sicuramente lo vedremo arrivare lontano è una promessa se lo dice Ottavio Barone arrivare lontano adesso però diciamo parti da questo titolo youth e dove vogliamo arrivare a vincere tutto europei mondiali olimpiadi tutto quello che c'è da vincere guardiamo in prospettiva abbiamo una dedica particolare per questo titolo una dedica alla mia famiglia e a tutti i miei amici che mi seguono da casa e pure al maestro Ottavio Barone che senza di lui non sarei qui grazie Ottavio complimenti grazie Francesco complimenti in bocca al lupo grazie a tutti Maurizio siamo già a metà della prima ripresa di questa finale dei 71 kg non è una finale che abbiamo annunciato ieri perché abbiamo detto Samuele Gugliotta e Nicolò Vettore avrebbero giustamente fatto questa finale quindi ci volevamo vedere questo match come è iniziato ma è iniziato molto molto attento ho studiato qualche azione di più vincente l'ha fatta l'ha fatta Gugliotta è ancora un po' indeciso Vettore deve essere più per la verità anche ieri abbiamo visto iniziare male infatti gli sono andato a parlare un po' gli ho dato dei consigli ma c'è ragione maestro che io devo fare qualcosa di più e qui ancora lo vedo un po' non sicuro non è ancora entrato nel match l'arbitro è il signor Antimo Di Fuccia all'angolo rosso c'è Nicolò Vettore come potete leggere anche sulla sovrimpressione grazie in regia a Giovanni Raeli a Valerio Fioroni grazie a Francesco Valeri per diciamo questa produzione della FP Servizi all'angolo blu c'è il Laziale Samuele Gugliotta quindi una finale Gugliotta ci ha ben impressionato è cresciuto tantissimo in questo torneo sta ritornando a quelli che erano i suoi ottimi livelli da junior finisce questo primo round un un primo round che diciamo sebbene si si diciamo abbastanza in tono ridotto questo soprattutto da parte di Nicolò Vettore possiamo dire che le azioni le due o tre azioni più importanti le ha fatte Samuele e Gugliotta non è stato concreto in questa ripresa Vettore non è stato deciso ecco deve essere deve essere più deciso nelle azioni mentre Gugliotta quello che ha fatto è giusto ha fatto il suo pugilato quello che doveva fare perché gli ha permesso Vettore di di fare le azioni di attacco ma Vettore deve essere più deciso in effetti Vettore ieri ha avuto difficoltà avendo un atleta più basso di lui invece adesso diciamo hanno la stessa struttura almeno non sta sbagliando niente Gugliotta non sta sbagliando niente perché sta facendo il suo pugilato mentre Vettore sta sbagliando una cosa quella che ci deve credere deve ci deve ecco deve crederci se vuol fare qualcosa bellissima questa azione due belle risposte di Gugliotta anche colpi ben caricati come dicevi tu giustamente Vettore non sta lavorando con diciamo i suoi colpi migliori che sono le serie di diretti quindi Gugliotta è bravo a rientrare a schivare vedi allontana adesso Vettore si trova un po' troppo avanzato parte subito Gugliotta con un buon sinistro visto niente Vettore sta lì sta lì che lo cerca di pressare ma non inizia l'azione di attacco mentre dà la possibilità al suo avversario di ricostruire tutta l'azione sua e Gugliotta fa bene perché gli sta prendendo un po' il tempo e il tempo delle sue azioni che deve fare ecco ma adesso vettore ha fatto questa azione e poi ha legato poi ha legato invece doveva spostarsi esatto e rientrare e rientrare e lì poteva stiamo parlando anche di un signor pugile Samuele Gugliotta togliendo un po' si molto scaltro certo 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 e anche ben e adesso ha preso preparato ha preso la serie di colpi vettore ecco ha fatto un po' di ritmo sopra gli ha fatto molto più ritmo adesso Gugliotta non trova ancora il passo giusto Nicolò vettore certo ieri aveva praticamente invertito il trend seconda e terza ripresa però ovviamente c'è da dire anche che si tratta di avversari diversi sì no no ma uno si vede che è più maturo nell'impostazione anche del pugilato non della 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 tattica maturo come pugile che si vede che quando ha quelle cose da fare le fa le fa si vede che vuole vuole fare il suo pugilato e lo vedo invece vettore anche ieri era un po' indeciso nelle cose infatti mi ha detto maestro le do ragione perché ancora dovevo entrare nella situazione del match e via invece ci deve credere di più se ci credi di più sicuramente cambia anche atteggiamento caratteriale ancora una bella azione tre colpi di Samuele e Gugliotta che anche in questa seconda ripresa è quello che ha messo perché deve essere più deciso deve essere più dopo bisogna dire io l'ho fatto ho cercato di farlo ma non ce l'ho fatta credo che anche in questa seconda ripresa Samuele Gugliotta abbia diciamo alzato maggiormente la voce tanto per usare un termine diciamo più delicato è riuscito è aumentato qualcosa più Gugliotta facendo quelle azioni di attacco che sono date tutte a segno mentre vettore non è riuscito poi a replicare e contrattaccare ricordo che questa è la finale dei 71 chilogrammi dopo due riprese sul mio cartellino ho in vantaggio il pugile laziale all'angolo blu Samuele Gugliotta Samuele Gugliotta soprannominato Bello di Nonno poi spiegheremo perché ecco terza ed ultima ripresa si assegna il titolo Youth 2023 dei 71 chilogrammi adesso diciamo sta lavorando da lontano Gugliotta va dal nord a rischiare vedi fa molto movimento si sta muovendo si si fa movimento destra e sinistra si ferma davanti stuzzicando l'avversario a farlo venire ma adesso ormai non vettore diciamo avrebbe dovuto secondo me impostare questa ripresa diversamente diversamente ma all'inizio all'inizio perché quando devi impostare una ripresa non puoi fare l'ultima se non se non sei se sei hai lavorato bene nella prima anche nella seconda e il match te lo devi giudicare al terzo round allora può cambiare tutto ma quando c'è diversità non si può rimediare in un round solo specialmente la terza ripresa che poi se l'avversario sa che è in vantaggio gestisce gestisce le azioni come vuole un minuto e mezzo al termine di questo incontro con il vettore che non riesce ancora a trovare il ritmo e distanza no no perché ormai lui come ha fatto la prima ripresa ha fatto la seconda e la terza non ha invertito il trend come ha fatto ieri in semifinale invece Gugliotta è stata una macchina perfetta possiamo dire certo certo ha impostato ha impostato quello che doveva fare è andato bene tanto merito merito suo sì diciamo che si è costruito molto bene questo incontro era parecchio che non lo vedevamo questi livelli Samuele Gugliotta grandi attività schoolboy e junior per questo pugile laziale adesso anche nella categoria youth non non diciamo cambia nulla Maurizio vettore sempre le solite difficoltà non è cambiato adesso abile in gestione ha avuto anche qualche ritardo nella partenza proprio invece ha visto che esplosione Gugliotta quando decide di partire quindi titolo meritato per Gugliotta che anche lui senza nulla togliere al vettore hanno fatto un importante torneo perché a volte a prescindere da quelle che sono le vittorie e le sconfitte dove valutare anche le prestazioni sì ma certo 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 quindi poi lo sai quando si arriva poi in una finale c'è c'è il carattere emotivo c'è quello più sicuro quello meno sicuro c'è tutti gli altri fattori che poi si si apprendono quando poi si comincia anche anche crescere ecco la proclamazione il nuovo campione italiano dei 71 kg è Samuele Gugliotta riceve anche i complimenti dai tecnici di Nicolò Vettore abbraccio con il suo maestro e adesso Marissio ci dobbiamo alzare tutte e due perché tocca a te premiare quindi andiamo nel parterre della premiazione per seguire la l'investitura ufficiale del titolo dei 71 kg vediamo maurizio stecca che sta consegnando la canotta è un po più alto di maurizio stecca gugliotte ecco il momento della foto ricordo una foto che ovviamente rimarrà nella memoria adesso adesso resta un attimo maurizio per piacere perché ci sono anche ecco c'è diciamo il presidente della provincia e il delegato del coni ben ritrovati prego per la foto il delegato coli lecce il dottor luigi renis e il vicepresidente della provincia di lecce antonio leo ecco adesso li ascoltiamo un evento molto importante questo qui un campionato italiano che arriva giusto 365 giorni dopo quello assoluto quindi ancora una volta la la provincia di lecce il coni di lecce tutto lo sport di lecce il pugilato accoglie la famiglia della box sì siamo molto contenti di questo ringraziamo anche francesco stefani e la b box che davvero hanno voluto fermamente questo incontro qui siamo molto contenti e la siamo contenti anche che questo incontro venga fatto in questo palazzetto è la prima volta che questo palazzetto e ospita un evento così importante siamo contenti che sia stati proprio voi ad inaugurare questo questo evento questo palazzetto grazie davvero di cuore ringrazio tutti e davvero un grosso in bocca al lupo a tutti questi ragazzi che davvero hanno un futuro davanti speriamo che sia quanto più rosio possibile grazie a voi io scusate mi passo davanti giustamente abbiamo sentito è importante l'inaugurazione di questo palazzetto intitolato a san giuseppe da copertino il santo della lievitazione ma soprattutto il santo protettore dei giovani e degli studenti esattamente proprio così e di giovani stiamo parlando e lo sport a questo si sta andando incontro praticamente anche con la nuova riforma dello sport ma anche col fatto che lo sport sia entrato in costituzione per quelli che sono i benefici psicofisici dello sport ecco a questo dobbiamo pensare loro sono il nostro futuro quindi i ragazzi che fanno sport sono veramente la nostra immagine della salute di un domani ecco grazie simbolicamente eh diciamo consegniamo il gagliardetto al campione olimpico eh per il tramite facciamo un tramite al campione olimpico e mondiale Maurizio Stecca facciamo venire anche Stefani il il tuttofare della Bebox procediamo alla consegna siamo olimpico possiamo la foto ricordo eccoci grazie grazie restiamo un attimo con Samuele Gugliotta grazie grazie di tutto mentre Maurizio va in postazione Samuele il tuo maestro maestro eh ci faccia l'onore lo so che lei non si vuole mischiare con noi però adesso siamo campioni d'Italia quindi Samuele ho detto in telecronaca che adesso il tuo soprannome è bello di nonno ma perché il nonno Sergio è sempre presente da una vita sì è sempre presente lui mi è portato in pezzo tutti i giorni infatti è quello lì su ti sparsi ci sta guardando e ringrazio per lui questa vittoria e anche a mio nonno Giovanni che purtroppo nemmeno un mese fa si è andato e questa vittoria la voglio dedicare a lui è bello ricordare dicevo Samuele grandi risultati da schoolboy da junior eh ti aspettavamo non ci hai deluso sei ritornato il Gugliotta che tutti quanti vogliamo ai vertici della nostra categoria di pugilati 71 kg sì è stato un bel campionato molto duro tutti i miei avversari sono stati validi e alla fine ce l'abbiamo fatta e niente tutto qui maestro hai detto scherzando ci siamo ripresi quello che era nostro per forza dopo un anno sfortunato tra mondiali che non siamo riusciti non per colpa nostra fare il peso e cose varie poi un europeo un po' sfortunato in un incontro a tre a due poi dato all'avversario era l'unico l'ultimo appuntamento d'aiuto era questo complimenti ancora grazie complimenti Samuele a presto naturalmente eh diciamo abbiamo preso un po' di tempo in più in questa eh premiazione queste interviste perché ovviamente ospiti del vicepresidente vicario della eh federazione pugilistica italiana è il dottor Fabrizio Baldandoni sono arrivati il presidente della provincia di Lecce eh sì è il delegato del CONI di Lecce quindi era giusto dare anche spazio a loro che tanto hanno contribuito a queste eh diciamo a questi campionati di otto stiamo seguendo il secondo round della finale dei cinquantasette eh chilogrammi due ottimi pugili eh all'angolo rosso c'è Gaetano Buonocore Campano di Montecorvino eh Pugliano Gaspare Raucci Campano di Marcianise della sezione delle fiamme oro di Marcianise una bella finale quindi un derby campano anche se eh Gasparè Raucci difende i colori del gruppo sportivo della Polizia di Stato una bella sfida secondo round sono due pugili molto validi dal punto di vista tecnico si vede anche una bella impostazione certo Raucci è anche il campione italiano uscente l'anno scorso non ha fatto eh i campionati per un infortunio eh Gaetano Buonocore eh no presumibilmente sarebbe stata questa la stessa finale sarebbe stata ripetuta molto mobile e Buonocore con questo saltello continuo questo saltellare continuo quindi il pugilio in movimento anche perché per prendergli il tempo sulle sulle azioni che deve fare però deve stare molto attento in questi movimenti perché se l'avversario gli prendi il tempo può può incappare in qualche colpo d'incontro Mancino Mancino Raucci che si tiene lì e c'entro ho visto che c'è stato l'incrocio dei colpi l'arbitro il signor Gavino Mannu Gag della Sardegna bello questo movimento indietreggiare di Gaetano Buonocore che ha vanificato l'attacco di Gaspare e Raucci ultimi dieci secondi di questo secondo round finisce anche questa seconda eh ripresa il primo round eh diciamo non l'abbiamo seguito noi da qui però ci fa segno eh che la prima ripresa è stata assegnata a Gaetano Buonocore in questa seconda ripresa io ho visto Buonocore mettere qualche colpo in più sicuramente gestire meglio facendo anche questo come ti dicevo questo movimento di entrare e uscire questo questo tipo di movimento che potrebbe dare sicuramente un po' fastidio all'avversario prima che eh prima di mettere magari i i colpi però è un eh è un atteggiamento offensivo nel quando un quando un pugile prende questo tipo di ritmo che riesce sempre prendere più il tempo maggiore per mettere le azioni. Sì sì con diciamo con questi movimenti con un ritmo ben coordinato ovviamente sei avvantaggiato proprio nel prendere il tempo all'avversario. Inizia questa terza ed ultima ripresa deve tentare il tutto per tutto Gaspare e Raucci perché da quello che abbiamo visto da quello che ci hanno comunicato dalla regia ringraziamo Valerio eh Fioroni prima ripresa è stata assegnata a ehm ehm Gaetano Buonocore mentre anche la seconda l'abbiamo seguita quindi abbiamo visto che ha fatto qualche cosina in più proprio come diceva Maurizio per quando riguarda soprattutto il ritmo e i tempi giusti. Ma anche adesso ha sempre quel movimento davanti a all'avversario e in quel caso lì per lui riesce eh ecco mettere l'azione o in anticipo o anticipa l'avversario o aspetta che di mandare di mandare vuoti a rientrare ma deve fare qualcosa di più Raucci deve fintare deve ci deve ecco adesso adesso ha messo un bel sinistro. No no ma hanno numeri hanno numeri qualitativamente alti. No no sono bravi tutti due però ancora Raucci deve fare qualcosa di più. Peccato che dovrà uscire un solo vincitore perché sicuramente sono pugili che danno spettacolo hanno qualità tecniche non eh comuni eccellenti possiamo dire però in questo momento proprio in ha trovato meglio il ritmo che danno Buonocore anche se Raucci avete visto con quanta precisione ha messo questo eh diretto sinistro e gancio destro poi è Buonocore che scarica una serie di ganci al corpo chiama il break il signor eh Mannu eh deve continuare adesso cavolo Raucci che gli ha messo una bella azione l'ha portato le corde si è fermato al secondo colpo poi è andato via ma perché? Ma perché deve fare così? Cioè non una volta una volta che ha l'avversario lì deve concludere anzi deve ancora fare. Ha dato tempo a Buonocore uscire e ha fatto e ha fatto il suo ha fatto il suo gioco ecco e su certe cose bisogna anche ragionarle su certi attacchi non è che bisogna andare così allo sbaraglio perché vengono messe le azioni e sono date segno ma deve anche ripetere la situazione. Allora abbiamo una comunicazione di servizio al termine di questo match eh ci sarà il saluto del sindaco e dell'assessore delegato eh allo sport diciamo delle tutte le autorità presenti che finisce questo incontro. Buonocore eh anche lui dopo un anno possiamo dire sabbatico ritorna qui ma complimenti veramente per Gaspare eh Raucci perché ha dimostrato di essere un atleta di grande prospettiva campione italiano l'anno scorso vice campione eh quest'anno diciamo veramente eh a volte sei un po' dispiaciuto di dover assegnare un solo una sola vittoria. Comunque complimenti a Gaspare Raucci complimenti per Gaetano Buonocore ecco la proclamazione il campione italiano di cinquantasette chilogrammi Gaetano Buonocore bella una una bella soddisfazione bel rientro ecco vedete anche il gesto affettuoso di calcio e fioravanti che consola eh Gaspare Raucci adesso andremo a seguire le eh premiazioni poi saremo sul ring per eh salutare eh le autorità intervenute diciamo anche i vertici della federazione quindi un eh piccolo intervallo e dopo ci ritroveremo qui in postazione con Maurizio Stecca per raccontare le altre eh sette finali quindi allora eh c'è un cambio di programma eh mentre state seguendo la premiazione io raggiungo il ring e chiamiamo un attimo le autorità quindi una breve pausa una breve pausa Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 per il Presidente e il Comitato nazionale Puglia è segnalata il reprodottore Nicola Pauschi. La vicepresidente del Paese di Marlava è segnalato la casa perché non c'è l'impianto di me non c'è. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci nel parterre, giustamente dobbiamo dare voce, visibilità e cuore anche ai nostri campioni. Maestro Calce Fioravanti venga qui perché voglia approfittare di questa occasione. Gaetano, anche per te, un po' per tutti, il trend è quello. Un anno sabbatico, poi però siamo ritornati a riprenderci quello che già era nostro. Sì, siamo tornati più forti di prima. Vorrei ringraziare tutta la mia famiglia, vorrei salutare la mia ragazza, i miei amici di palestra, soprattutto questa vittoria dedico a mio padre. Grazie al maestro Calce, ne approfitto perché il nostro messaggio deve arrivare anche attraverso questo streaming. Dovete sapere che il maestro Calce Fioravanti si sta battendo per avere di nuovo la sua accademia. Chi di dovere deve capire che questo signore sa lavorare con il pugilato, con i suoi campioni. Gaetano è un esempio. Oggi è il momento di gioire per questa vittoria, però mandiamo l'appello. Una palestra per la Pugliano Box. Sì, ringrazio l'organizzazione che ci ha invitato in questa situazione, in questo programma che hanno fatto. Ringrazio il mio ragazzino e figlioccio Gaetano. È commosso il maestro per questo abbraccio, veramente è un lavoro certosino. Io, anche in qualità di dirigente del Comitato Campano, mi sento veramente di ringraziare Calce Fioravanti per i risultati che ci sta portando. Grazie, tanti auguri. Grazie Gaetano. In bocca al lupo. Grazie. Dopo questa pausa tra saluti istituzionali e l'intervista giusta per quanto riguardava il campioncino italiano dei 57 kg, Gaetano Buonocore, di nuovo in postazione, Maurizio, scusami se ti ho lasciato. Stiamo seguendo la finale dei 60 kg. All'angolo rosso c'è Dario Delle Curti del gruppo sportivo della sezione giovanile delle Fiamme Oro e all'angolo blu c'è Andrea Capitani della Regione Lazio. Molto bella questa azione, questo improvviso destro-sinistro due volte da parte Delle Curti. Sì, perché poi il match si è acceso subito, non è che ha avuto il tempo di essere un po' studiato, è partito subito all'attacco, sono due atleti che si vogliono confrontare perché hanno preso subito il centro ring e vogliono proprio impostare la loro guardia, la loro tecnica. L'arbitro è il signor Marco Celli, gag della Toscana, vedete, un arbitro molto molto esperto. Anche gli arbitri presenti a questi campionati non sono, diciamo... Anche internazionali. Sono internazionali, una stella, due stelle Iba, scusate, tanto di cappello, un campionato veramente organizzato in ogni dettaglio. Intanto, ultimi 15 secondi di questa prima ripresa, Delle Curti, angolo rosso, Capitani invece è all'angolo blu. Capitani è stato nazionale junior, ha sfiorato il podio ai penultimi campionati europei, quelli praticamente disputati a Montesilvano. Quindi una prima ripresa, forse per quel finale, quelle due combinazioni, quei gol più precisi, possiamo dire che può essere assegnata a Dario Delle Curti, però non è che ha fatto la comparsa Andrea Capitani. No, no, ha cercato, anzi, tutt'altro, ha cercato anche lui di accorciare la situazione, la sua continuità nei colpi e devono stare molto più, sicuramente un po' più calmi e di studiare bene le azioni. Almeno questo è quello che abbiamo riscontrato noi in questa prima ripresa. Ascoltatemi bene, vedi la severità di Marcocelli. Inizia la seconda ripresa, subito uno scarico molto bello. Bellissimo questo sinistro, Capitani ha reagito molto bene, non era facile assorbire il secondo sinistro, perché la prima serie possiamo dire che erano colpi piuttosto leggeri, poi però è arrivato subito. Adesso Capitani ha bisogno di accorciare un pochettino le distanze per mettere i colpi, mentre ecco sta un po' sbagliando Delicurti che si butta sopra e magari non riesce poi a, come adesso, non riesce a concludere l'azione, si butta dentro ma non conclude, mentre poi Capitani si deve liberare del suo peso. Adesso si sta, diciamo, un po' sporcando il match dal punto di vista tecnico, ma è naturale perché Capitani deve, per forza di cose, come dicevi tu, accorciare. Eh, ma devi fare richiamo ufficiale. Adesso c'è un richiamo ufficiale del signor Celli, l'avevamo avvertito. Non ci sentono, sappiamo il rigore e la severità di Marco Celli, è un richiamo ufficiale che può essere, diciamo, pesantissimo, se non determinante. Certo, certo. E adesso gli fa, infatti, guarda, gli fa richiamo ufficiale a Delicurti. Come si chiama? A bilancino questo? Beh, però Delicurti non si deve avvicinare, deve rimanere media, media e lunga distanza, deve rimanere su quella posizione. Se si avvicina, certo che Capitani deve lavorare sotto. Secondo me non sono bastati, scusami i due richiamo ufficiali, a riportare un po' il match sui binari perfetti. Ripresa molto, molto confusa e scorretta questa qui, due richiami ufficiali. In un arco di 10-15 secondi, ecco, così almeno si vede chi mette più colpi. Sbaglia Delicurti ad andare avanti. Perché è velocissimo Capitani a abbassare il tronco e poi regalzerlo. Sì, ma è Delicurti che gli dà la possibilità di essere anche scorbutico così. Deve rimanere media e lunga distanza Delicurti e basta. Non si può avvicinare, perché se si avvicina dà più possibilità al suo avversario e poi diventa scorbutico il match. Non diventa bello. Eccolo. È uguale, guarda. Sì, uguale. Diciamo una brutta seconda ripresa. Diciamo, sottolineo brutta ripresa perché so che i due fuggili hanno grandi qualità. non c'era bisogno di sporcare così questo bello incontro perché la prima ripresa è stata molto bella, una seconda ripresa un po' confusa. A me riesce difficile a segnare questa seconda ripresa. Sì, perché c'è stato un richiamo a testa e lì bisogna vedere se hanno inserito bene, se hanno capito bene, hanno visto le azioni, quali sono i colpi più precisi che sono andati perché è stata questa ripresa molto attiva. Questo diciamo quanto visto, quindi io direi un incontro ancora con grande equilibrio. Sarà decisiva la terza ripresa, quindi grande sofferenza per entrambi i fuggili. Però ci auguriamo di vedere una ripresa più viva, più tecnica rispetto a quella che è stata questa seconda ripresa. Terza ed ultima ripresa. in palio il titolo italiano Jutt dei 60 kg. Ecco, deve fare... Bella questa azione. De Likurti deve rimanere su quella distanza lì, non si può avvicinare. Non si può avvicinare. Se si avvicina e favorisce a Capitani... Ancora il gancio destro di... Delle Gurti. Eh, però in quel caso lì Capitani reagisce... Perché ce l'ha attaccata e reagisce bene. Non si può togliere dall'avversario. Ecco, diciamo, quasi ti sta ascoltando. Si sta mettendo, diciamo, alla lunga e media distanza... Eh sì. ...Delle Gurti. Non rischia questi abbracci. Ancora una bella azione, un bella scelta di tempo da parte di Delle Gurti. Ancora il sinistro del Pulgi dall'angolo rosso. A vuoto Capitani, diciamo... Eh, richiamo ufficiale. No, no, è incredibile. È incredibile. È incredibile, sinceramente. Non lo condividiamo. Magari ci prenderemo qualche critica, ma... Così subito... Però... L'arbitro sta più vicino a noi. Ancora due volte il sinistro di... Delle Gurti. Delle Gurti ha preso quell'azione... Io non ho visto scorrettezze da parte Delle Gurti. Ancora una palestinazione. Adesso ha messo due colpi lunghi, belli. Due diretti lunghi che sono dati proprio a sé. Adesso c'è l'errore. Adesso vediamo... Adesso c'è l'errore. Adesso guarda, adesso c'è l'errore, se c'è l'errore è un casino. Sinceramente... Io credo che, mi dispiace dirlo, però sto qui, qualche cosa devo raccontare, devo fare le mie riflessioni. Però non credo che con questi quattro richiami ufficiali, due per parte, si sia riportato il match su... No, 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 certo. Anzi, secondo me crea ancora molta difficoltà ai giudici per trovare un vincitore. Ripeto, peccato perché personalmente ho visto una bellissima prima ripresa. Ancora il sinistro delle curti, poi c'è il destro di Capitani che va a segno. Devono trovare tutti e due le migliori qualità della loro tecnica. Per esempio Delle Curti sta bene in questa posizione, però attenzione le mani. E' visto il sinistro di Capitani, molto bello. E' visto che adesso ha preso un po' la misura Capitani nella media distanza. Ultimi dieci secondi, durissimo questo match. Finisce questo terzo ed ultimo round. Sinceramente tutto è in discussione, due richiami ufficiali per ciascuno. Una prima ripresa, io ho visto Delle Curti diciamo abbastanza più produttivo. Nella seconda ripresa Capitani è riuscito tra grosse difficoltà, secondo me, a riportare in parità il match. A terza ripresa ho visto qualche colpo in più. Bisogna vedere come vengono considerati. Bravo. Non ci troviamo d'accordo con questo verdetto, però se hanno visto così il giudice. Capitani è il nuovo campione italiano dei 60 kg, però sicuramente mi sento di dire che è stato uno dei match più brutti di questi campionati. Nonostante siano due pugili di grande qualità. Adesso seguiamo la premiazione da parte del vicepresidente della federazione Fabrizio Baldantoni. Io mi trasferisco nel parterre delle premiazioni. Ecco il nuovo campione italiano dei 60 kg per la foto. Grazie vicepresidente Andrea, prego maestro, da questo lato per piacere, un match molto molto difficile. Iniziato diciamo sotto tono, poi però ecco che viene anche Delle Curti per essere premiato. Veniamo in postazione, eccoci con la consegna della medaglia, vice campione italiano. Grazie, grazie mille. Dicevamo, match durissimo Andrea, iniziato diciamo non proprio in maniera perfetta il primo round, poi però ci hai messo la tua solita grinda, match un po' troppo scorretto per mettere in mostra quelle che sono le tue vere qualità. Sì, sì, guarda, volevo ringraziare soprattutto il maestro Fabio, il maestro Francesco e il maestro signor Torino mi ha dato una mano all'angolo. E anche il maestro Fabio, già lo sappiamo qual era la finale, sappiamo che incontravamo Delle Curti, ci siamo preparati bene al match, ci siamo preparati bene e non so che dire, sono emozionato. Giustamente, è un titolo, ecco, Fabio. E anche mamma e papà che mi hanno aiutato con la dieta e tutto. Li salutiamo, si sono quasi avvicinati al parterre, percato averli lontani. Fabio, match più difficile del previsto. Andrea ha detto, finale annunciata, era così, però te l'aspettavi così dura questa finale? Sì, sì, me l'aspettavo dura, comunque è un avversario che abbiamo visto, abbiamo studiato, insomma, era in conto che potesse andare in questo modo. Sono due bugili comunque con delle caratteristiche che prevedevano che il match potesse andare in questo modo. Grazie Fabio, complimenti, complimenti. Andrea, in bocca al lupo per il proseguo dell'attività. Riaccomi qui, Maurizio. L'arbitro è già partito il derby toscano che assegnerà il titolo negli 86 kg. L'arbitro è il signor Gaetano Valentino, all'angolo rosso c'è Marvin Ghilarducci e all'angolo blu c'è Jonathan Pisano. Questo è anche, diciamo, un risvolto interessante che mi preme sottolineare. La scelta della CTN, diciamo, è talmente meticolosa che vede a volte consente anche più di un pugile di livello della regione di trovarsi. Tanto è vero, c'è qui la scelta e poi il campione regionale, quindi un grazie alla Commissione Tecnica per questa selezione che consente poi di portare pugili di ottimo livello qui alle finali dei campionati italiani, siano questi youth che assoluti. bella questa prima ripresa, ho visto, diciamo, scambi molto intensi. Ah, sì, sì, dal primo secondo all'ultimo si sono attaccati, non hanno avuto neanche il tempo di studiare, che hanno avuto subito la preparazione al combattimento, la ripresa. Finisce il primo round, c'è qualche colpo in più da parte di Larducci. Eh sì, perché sono... Almeno vedo anche le tue crocette sul rangolo rosso che sono di più, quindi presumo che... Debo copiare. No, no. Io sono telecronista, tu sei un... Sì, ma io perché... Perché no, perché dopo io mi ricordo dove, se ho sbagliato certe cose, allora mi viene... Quindi direi una prima ripresa a favore del pugile all'angolo rosso. Eh, però hanno lavorato bene tutti e due, perché hanno avuto sempre questo... Questo schema di tutti e sempre questo corpo corpo, e poi lo sai che è difficile anche entrare con i colpi puliti, con le azioni giuste, tutto quanto però, ecco... L'altro stiamo parlando di 86... Eh, certo, eh. Seconda ripresa, Ghilarducci, angolo rosso, Pisano, angolo blu, entrambi sono pugili della Toscana. Eh, Ghilarducci che riesce... Parte sempre per primo nelle azioni e sono le... No, ma trova bene il tempo. Il tempo e l'entrata dei colpi poi proprio, anche se continuo. Poi lo sai, in guardia, poi in guardia rovesciata, in guardia manzina, riesce a entrare meglio... Meglio con la mano destra. Bello questi due montanti da parte di Pisano. Sono due colpi, a volte il colpo ti scuote, di fatti sono due colpi che hanno scosso Ghilarducci, che poi è uscito con un bel gancio destra, ancora il destro di Ghilarducci che va a segno. Azione, diciamo... Fuori il gancio, il gancio di difesa. Di precisione da parte di Ghilarducci con questo diretto sinistro, ecco, che lo prepara con il destro e poi parte improvvisamente. Trova... Eh, adesso lo ha girato, eccolo. Nel complesso è Ghilarducci che mette qualche colpo in più. Sì, sì, è anche più preciso, eh. Anche un po' più preciso. Che noi che siamo un po' sotto il ring, riusciamo a vedere meglio magari di quelli che sono sulle tribune, chi è in televisione, altre cose, e riusciamo a vedere meglio qualche colpo che magari non vedono, invece noi lo vediamo, ecco. Naturalmente i giudici vedono meglio di noi. E poi i giudici vedono meglio di noi perché sono cinque in tutte le posizioni del ring. Noi giudichiamo quello che vediamo. Almeno quello che bisognava di vedere. Esatto, quello che è inventarci niente, quello che vediamo diciamo. Poi dopo possiamo dire le nostre opinioni, come vanno o non vanno, ma... Ecco, anche qui un grande scambio. Grande scambio. Grande scambio. Lido Pisano con una bella combinazione diretto destro e cancio sinistra, risposto molto bene Ghilarducci. Adesso Pisano un po'... Niente, no, no, sta aspettando un attimino un po' la reazione di Ghilarducci, ma c'è sempre stato questo corpo-corpo tipo match professionistico. ecco vedi ci sono queste azioni di risposta di Chilarducci che mi sembrano più precise anche se Pisano sta cercando di dare questi scatti improvvisi di Pisano Chilarducci mi sembra più continuo finisce anche questa seconda ripresa anche in questo secondo round un po' per continuità di azioni un po' anche per precisioni di colpi credo che Chilarducci possa essersi aggiudicato questo round intervallo prima della terza ripresa secondo il mio punto di vista le prime due riprese sono da assegnare al pugile Ghilarducci quindi praticamente più diretto verso il titolo il pugile toscano all'angolo rosso rispetto al corregionale all'angolo blu terza ed ultima ripresa magari sono pugili che già si sono confrontati nella regione bello adesso questo gancio destro di Pisano poi si abbracciano i due prova i montanti stretti quindi il pugile all'angolo blu che non deve trattenere come segnala il signor Gaetano Valentino parte subito però è stato bravo però Ghilarducci certo di anticipare anche se esatto ha aspettato l'azione di Pisano ma Ghilarducci dopo ha finito la sua azione molto bene mette tre jeb consecutivamente magari in quel momento Pisano è in guardia giusta no no Pisano è giusto però mette sempre colpi sulle braccia sui guantoni non va mai a segno dove deve mettere i colpi mentre quelli al bersaglio preciso al bersaglio preciso mentre quelli di Ghilarducci quando metti i colpi vanno quasi a segno e vanno dove c'è lo spazio lo spazio libero comunque bravi tutti e due perché stanno facendo molto intenso molto intenso lo scontro fisico diciamo stiamo parlando di 86 kg abbiamo visto certo un solo intervento dell'arbitro Gaetano Valentino bravo adesso Pisano Pisano però è rimasto lì sui suoi colpi mentre gli ha girato intorno Ghilarducci che era ed era subito pronto a mettere i colpi ecco adesso l'ha girato ancora e ricomincia l'azione ultime battute ultimi 40 secondi di questo match con Pisano che tende all'ultimo assalto sicuramente più più produttivo nel senso del numero di colpi rispetto alle altre due riprese di questa volta Jonathan Pisano in questo terzo round invece adesso è bella pure accademia molto bella questa azione sei colpi di Ghilarducci questo lì che lo aspetta ecco tenta di mettere adesso gli ultimi 15 secondi cerca di non rischiare molto prova con il montante destro eccoli qui scanditi gli ultimi 10 secondi del match finisce in questo momento braccio fra i due amici toscani Ghilarducci per me si è giudicato questa questa questo match questa terza ripresa anche nonostante diciamo visto Pisano molto più attivo in questo terzo round si si ha fatto qualcosa di più però era sempre con quelle azioni che non sono si pulite erano pulite ma andavano sempre sulle braccia mentre quelle di Ghilarducci erano un po' più bello bello questo gesto sportivo di Ghilarducci ecco la proclamazione ufficiale marvin ghilarducci campione italiano youth 2023 negli 86 kg match all'insegna della grande sportività maurizio si ma è sempre ci deve essere sempre anche se se hanno fatto una finale perché si devono giocare si devono giocare il primo posto ma poi hanno fatto la stessa fatica uno magari il ragno che serve per arrivare poi nella finale ecco si sono trovati due toscani in finale ecco andiamo a seguire la premiazione del presidente del comitato regionale Puglia Basilicata Nicola Causi mi sposto nel parterre grazie a tutti grazie a tutti ecco la foto ricorda ancora l'abbraccio ecco Marvin restiamo un attimo complimenti un bel prego maestro un bel derby toscano ti abbiamo visto molto determinato fin dal suono del primo gong poi sei arrivato alla terza ripresa veramente in grado di gestire un avversario molto caparbio molto forte che ti ha messo anche a tratti in difficoltà innanzitutto faccio i complimenti al mio avversario che è vice campione d'Europa e quindi basta solo questo per presentarlo come avversario volevo dedicare la vittoria Alessandro Cecchi e Renato Ghilarducci mio nonno che sono sempre con noi purtroppo non sono più tra di noi ma le portiamo sempre nel cuore e volevo ringraziare gli amici la famiglia i ragazzi della palestra Vincenzo Bortone faccio in bocca al lupo per la partecipazione che farà gli europei a Donato Salvemini Armando Simone e tutti i ragazzi della palestra ce ne hai parecchi da salutare quindi la gioia di questo titolo non ti ha fatto dimenticare nessuno maestro sei arrivato qui con la bella notizia l'ha ricordata Marvin di Bortone il nazionale che andrà a fare gli europei adesso torni a casa anche con questo titolo puoi dire sono contento sono molto soddisfatto ultimamente a Via Reggio abbiamo portato campioni d'Italia campioni toscani campioni d'Italia Bortone valli europei insomma in un mese tanti successi questo è frutto di un duro lavoro questo ragazzino fa 60 allenamenti mensili si alza alle 6 la mattina prima della scuola e la sera si riallena quindi il merito è tutto suo io mi prendo il merito di avere la passione dedico questa vittoria ovviamente a mio padre e al nonno Alessandro Cecchi al nostro caro amico Edo di Sarzana a tutta la Livorno Bocchi Salvemini al maestro Donato Salvemini che è infaticabile che ci mette al nostro agio fa un grosso lavoro a distanza a tutta Via Reggio e oggi Marvi e Reddi Via Reggio troppi complimenti troppi complimenti troppi complimenti per Donato Salvemini basta che non ne facciamo più faccio a mio padre che oltre ai valori di vita mi ha insegnato i valori del pugilato dello sport e di tutto il resto e gli faccio anche gli auguri che gli aree adesso compleanno molto bello questo quadretto scherziamo vogliamo bene a Donato e lo apprezziamo per il suo lavoro buon rientro con il titolo italiano riaccoci di nuovo in postazione per questa finale di 63 kg e mezzo vi presento l'arbitro il signor Faik Zaimi all'angolo rosso c'è Bilal Bussadra campione italiano in carica all'angolo blu c'è Fabio Smedile sicuramente un ragazzo in grande crescita veramente forse non è stato ancora premiato per i grandi sacrifici che lui fa e adesso sta provando a vincere questo titolo che prima ripresa è stata Maurizio? eccezionale qui sono sono tutti i due bravi attenti e qui ti dico chi sbaglia meno vince chi sbaglia meno vince sono bravi tutti i due c'è proprio uno casca sull'errore dell'altro ma sbagliano poco stanno sbagliando poco ognuno ha la sua impostazione di guardia molto attenti molto veloci nelle azioni e non ti è ancora il match lì e lì è ancora questa ripresa adesso finisce finisce questa prima ripresa una prima ripresa che io non ho seguito perché stavo facendo è stato sempre lì e lì non c'è stata una grande diversità perché sono bravi tutti i due giocano su questa attenzione di questa media distanza e stanno molto attenti la velocità sui colpi sulle azioni e qui anche giudicare la ripresa è molto difficile anche per i giudici molto molto studio adesso sono molto concentrati bravi tutti i due poco intervento dall'arbitro pochissimo chiediamo chiediamo ai giudici di conoscere il al commissario di riunione Alessandro Lelli di conoscere il rossa la prima ripresa Maurizio eh sì adesso vediamo questa seconda ripresa che inizia in questo momento Bussadra Bilal da Mirabella e Clano Avellino italiano da poco più di un mese qualche giorno in più di un mese prestato aggiuramento il giorno del suo compleanno il 18 settembre Fabio Smedile Fabietto flash viene invece dal eh dal Lazio da Roma adesso Bilal sta facendo molto movimento sia per quanto riguarda gli spostamenti che per quanto riguarda i colpi portati si ma non non mi sono sembrati i colpi con l'interno del guantone no 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 forse diciamo hanno mulinato molto bene ma non hanno toccato nessuno uno può girare come vuole però l'arbitro è più vicino a noi si si ha visto ha visto però non sono dati se non sono dati segno uno può fare uno può mettere anche ancora quello questo spostamento di bussadra smedile ha qualche difficoltà ad accorciare lui ma perché non gli da io l'ho definito in altre circostanze un fighter molto tecnico e preciso smedile smedile si 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 vede invece adesso però non sta trovando la distanza lui con geniale ma perché il suo avversario buon lavoro quello di bussadra bussadra hai visto non sai neanche come può partire se con il diretto sinistro con il diretto destro o gancio gancio destro gancio sinistro c'è ecco ti si muove davanti in un modo dove 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 smedile non riesce a inquadrarlo adesso ha caricato con un colpo ma l'ha preso è arrivato un po' lungo è un po' lungo certo l'ha preparato molto bene il colpo se fosse arrivato preciso diciamo sarebbe stato un ottimo colpo ancora bussadra che anticipa questa scelta di tempo bussadra di questi colpi che mette sempre corretto smedile è sempre lì compatto non trattenere l'avvertimento del signor Zaini perché sono incrociati adesso ha iniziato smedile ma ha finito col gancio col gancio sinistro bussadra in caso strano ha messo un bel primo colpo smedile però non ha saputo doppiarlo ma dopo l'ha incrociato bussadra adesso qui c'è il gioco di velocità degli scambi degli scambi veloci eccolo però 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 ecco attenzione perché smedile non è mai domo c'è un problema anche al casco caschetto anche in questa seconda ripresa tranne diciamo l'ultimo assalto di smedile è difficile giudicare perché sono bravi tutti e due allora smedile usa un po' più la potenza carica molto sta caricando sta caricando molto i colpi sta caricando mentre scerfando il colpo secondo me per ridurre questa certo per bloccare per bloccare il movimento per progare il movimento di Bussadra che lo sta lo sta muovendo nelle varie in tutte le situazioni cioè allora se cerca di bloccarlo sulle gambe sicuramente andrà a far parte dell'interesse di di smedile ecco ultima ripresa di smedile di smedile adesso cavolo adesso ha preso bel montante no ha tirato un bel montante sinistro l'ha preso gli ha portato via l'equilibrio a smedire ma ultimissime battute manca ancora diciamo gran parte della terza ripresa in questa sfida giustamente smedire si è nervosito molto si è nervosito molto perché anche Bossadro gli ha messo il montante il montante sinistro è andato per te se gli è alzato subito poi c'è stato subito l'avvertimento dell'albitro a Busadra perché penso che l'ha arrivato si è nervosito molto è molto molto certo certo adesso infatti l'ho portato il richiamo ufficiale e via ancora un minuto questo incontro che è diciamo inspiegabile è iniziato questa terza ripresa molto è molto nervoso è molto nervoso si 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 è molto molto nervosa e sicuramente Busadra ne ha ne ha approfittato un po' la situazione peccato perché in questo caso non abbiamo visto il vero smedile al termine diciamo della terza ripresa non l'abbiamo visto più tranquillo no no come se come ha cambiato atteggiamento smedile non è riuscito più a qualche cosa deve essere diciamo successo successo nella testa del ragazzo peccato peccato perché è vero che ha trovato un buon avversario ma certo certo finisce anche questa terza ripresa buono buono dai che si sono si sono calmati tutti no no ma secondo me smedile non era nervoso no no nei confronti del suo avversario no però c'era c'era qualcosa c'era qualcosa che non andava c'era qualcosa che non andava nella testa e nel cuore di smedile in questa terza ripresa grande sportività qualcosa deve averlo turbato esatto 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 ed è un peccato perché questo non ci ha permesso di vedere effettivamente bravi tutti i due bravi tutti i due il vero diciamo smedile però un verdetto ci deve essere un vincitore ci deve essere c'erano diciamo nelle prime due riprese io ho visto Bussadra fare più azioni mettere più colpi sì sì ma dopo ho entrato nel terzo round qualche altro fattore esatto aspettiamo il verdetto quindi Bilal Bussadra bissa il titolo dello scorso anno quest'anno lo ascolteremo dopo diciamo lui ci teneva perché sarebbe il suo primo titolo da italiano lo ascolteremo dopo dispiaciuto smedile ma probabilmente ripeto qualche cosa si è inceppato sì sì qualcosa si è innervosito molto smedile non ha boxato con la sua grande tranquillità ecco sportiva ancora smedile va ad abbracciare Bussadra adesso andiamo a seguire la premiazione un po' di un po' di un po' di eccoci qui dopo la foto ricordo con Bilal Bussadra non vedo il tuo maestro dove sta il grande Frongillo Taurasi eccolo qua complimenti maestro ecco Bilal ci avevi detto all'inizio di questo torneo che volevi vincere il tuo primo titolo da cittadino italiano ce l'hai messa tutta sono stati dei match in crescendo l'ultimo difficile secondo il mio punto di vista hai vinto perché sei stato quello che ha ragionato di più e che ha mantenuto più calma certo è stato un match molto difficile con un avversario molto valido e molto duro vogliamo salutare mamma Fatima che sicuramente stava sulle spine saluto tutta la mia famiglia, la mia ragazza un grazie al mio maestro che tutti i giorni mi spruna mi allena per vincere il campionato italiano e adesso sogni questa benedetta maglia azzurra adesso nell'Under 22 adesso spero di poter partecipare ad Europei e far parte della nazionale italiana visto che abbiamo preso la cittadinanza italiana da poco Maestro ancora complimenti per la sua accademia lo abbiamo detto anche in telecronaca in una realtà periferica lei è riuscito a realizzare questa splendida accademia di Pugilato i risultati stanno venendo Bilal è al suo secondo titolo consecutivo beh che dire siamo soddisfatissimi della medaglia che ha preso Bilal oggi ci abbiamo lavorato con tante problematiche di salute che lui ha avuto abbiamo dovuto fare una preparazione non molto diciamo specifica proprio per quanto riguardava i problemi che aveva di salute ci siamo riusciti, siamo portati a casa questo secondo titolo e comunque niente sul territorio si lavora anche se stiamo a livello logistico non siamo in un centro come Avellino, Benevento, Napoli però ci facciamo valere anche se stiamo in una zona un poco nell'entroterra comunque riusciamo a portare qualche titolo a casa grazie maestro Fruncillo grazie Bilal complimenti ancora alla prossima voglio salutare tutti i miei amici che mi supportano da casa vi amo e anche quelli che ti sopportano grazie 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 finale dei 67 kg una finale molto importante molto significativa l'arbitro è il signor Liotta Andrea da Siracusa di fronte ci sono all'angolo rosso Cristian Arpula Emiliano ma tesserato per le fiamme oro sezione giovanile di Roma e Davide Fiore campione italiano in carica grande esperienza per Fiore sono due pugili di grande qualità grande ripresa non c'è stata grande differenza una ripresa molto studiata molto studiata e attenta sono due pugili ripeto che da sempre secondo me sono diciamo tra i migliori tra i più alti in questa categoria più potente Fiore più un pizzico più tecnico più tecnico Cristian Arpula Fiore è tra le altre cose figlio d'arte vediamo con il papà all'angolo anche diciamo il maestro Fiore è un tecnico che si dedica molto e molto meticoloso è certo veramente ha vinto anche e tanto con i suoi allievi pronti per il secondo round Arpula angolo rosso Fiore Pugliese angolo blu non rischiano ragionano molto ma si infatti il primo round è stato i pugili che hanno tecnica non si buttano non cercano nella potenza o nel nel ritmo come hanno fatto come hanno fatto in alcuni incontri precedenti che questo invece è uno studio è uno studio tra bravi tra bravi pugili tra bravi atleti cercano cercano di sbagliare meno meno possibile perché ogni sbaglio potrebbe essere fatale bella questa azione questo bel colpo di Arpula d'attacco d'attacco in genere Maurizio spiegami questo diciamo stiamo parlando di pugili tecnici quindi non vedi scambi continui ma devi apprezzare solo la qualità dei pochi colpi che ci stanno infatti Arpula ha fatto un'azione bella è andato a segno poi si è spostato ed è ritornato davanti al suo avversario senza fare tanti atteggiamenti diversi e si è rimesso ancora ma attenzione che Fiore è sempre lì ad aspettare l'errore di Arpula se glielo fa se no se no gestisse su certe situazioni Arpula e infatti qui hai visto che c'è sempre quello scatto di entrare uscire entrare uscire e questa una finale diciamo annunciata ce l'aspettavamo possiamo dire che senza voler offendere nessun altro in questa categoria che sono il numero uno il numero due del ranking della categoria di Ute di Ute tra i 67 kg anche se Fiore è il secondo anno e Arpula è il primo anno di Ute si si già è tutto poi da da Taccresia perché lo sai ecco come hai detto tu un anno finito è un anno che deve fare ancora Arpula e va bene e va bene per tutti e due visto adesso il destro il destro di incontro di di attacco scusa di attacco di Arpula però se non ha dato segno di fare un passo indietro Fiore che rimane sempre ecco su quella su quella distanza molto molto attento infatti ho detto che spaglia di me bella questa azione adesso prima bel colpo di Arpula poi una bella una bella risposta con il gancio sinistro di Fiore ancora Arpula che lavora bene ma va a vuoto con il gancio destro ultime battute di questo secondo round se mi consenti Maurizio meno intenso del primo per il primo ho visto qualche colpo in più in questo secondo round ho visto diciamo dei colpi isolati una ripresa sicuramente più equilibrata rispetto alla prima la prima è stata allora la prima è stata per impostare proprio la propria ripresa la seconda sicuramente la seconda è stata più studiata nel momento giusto anche qui ci sono stati pochissimi errori ci sono stati match molto pulito molto attento è molto tecnico è un bel match è un bel match magari a gente a gente piace magari questo modo del corpo di qualità da entrambi entrambi sono tutti due bravi e ho detto chi sbaglia di meno vince ecco vediamo questo terzo ed ultimo round inizia in questo momento secondo me è un round decisivo è certo diciamo ho l'impressione che chi si aggiudica questa ripresa porta a casa il titolo naturalmente ci tiene molto Fiore che se lo gioca davanti al pubblico della sua regione ma Arpula sicuramente vuole dimostrare di non essere inferiore al quello che al momento è il titolare della nazionale aiuti sicuramente Arpula vuole dire ci sono anch'io posso dire la mia ragazzo di grande carattere così come Fiore adesso c'è questo avvertimento del signor ma si è un colpo poi in velocità lo sai che arriva alla fine che potrebbe essere magari non si gira in tempo il colpo ma match ancora aperto parte Arpula mette il sinistro poi però va avuto con il gancio destro Fiore sta cercando di avvicinarsi prova il gancio sinistro è arrivato prima il sinistro di Arpula poi il gancio sinistro di di Fiore di Fiore ancora un'azione tentata un po' di un po' di scena anche questo fa spettacolo però non è gradito al signor no ma può anche incidere sui potrebbe anche invece bisogna avere sì possono ci possono essere i colpi di finta fintare ma non quei gesti così perché poi dopo magari porta sicuramente situazioni diverse di giudizio ecco ecco bella questa azione il jab sinistro di Arpula però c'è stata una bella reazione in precedenza c'era stata una bella reazione di di Fiore e sì effettivamente proprio diciamo la qualità diciamo si bilancia bisogna vedere anche i giudici poi quali colpi ritengono più visibili e più produttivi molto bello adesso questi colpi precisi a fine ripresa a fine ripresa questa azione ecco rimangono impresse perché sono le ultime che fanno e questo adesso è il momento i 30 secondi poi vai a 15 e 10 adesso chi lavora di più adesso chi lavora di più si può giudicare la ripresa 15 secondi decisiva ancora il bel gancio destro di Arpula bella la schivata finisce questa bella sfida bel match davvero ce lo aspettavamo ci aspettavamo questa finale ci aspettavamo questo match io le prime due riprese ce l'ho in parità nella seconda sto provando a contare i colpi qualcuno in più è stata una benona però bisogna vedere anche quali sono anche se c'è qualche colpa in più poi devi vedere quali sono quelli che i giudici hanno considerato colpi punto ecco il verdetto match è equilibrato quindi è giusto che poi diciamo quando il match di queste categorie di questi di questi livelli poi giustamente ci rimane è male chi perde un match molto intenso molto equilibrato non è contento l'angolo blu ma il pugilato è anche questo ci sono diciamo i giudici che valutano diciamo con la loro visione umana non c'è un cronometro un qualche cosa esce tra gli applausi comunque Davide Fiore è stato un bellissimo match è stato un bellissimo è stato un bel match poi te la vai a giocare in una ripresa finale eh diciamo c'è c'è un mal codetto ci può stare eh certo certo la tensione nervosa poi sei in una finale e tutto però noi che eravamo che eravamo anche sotto il ring no ma poi abbiamo cioè non c'è stato questa ripeto è stato lì il match ma alla finale esatto probabilmente ripeto secondo il mio punto di vista si è andato a valutare eh non il numero dei colpi ma la precisione la precisione dei colpi quindi è stato preferito Arpula che porta a casa questo titolo io vado in postazione per le interviste eccoci qua in postazione Cristian complimenti chiamiamo anche i maestri li chiamiamo tutti e due li chiamiamo solo Carmine no pure Dario dai è il padrone di casa io inizio con Dario perché è il padrone di casa Dario ma un certo momento vi ho visto saltare all'angolo che cosa è successo vi siete trasformati in ultra beh è una grande emozione perché vedendo Cristian ha disputato un campionato strepitoso poi ovviamente oggi più di tutti la terza ripresa ovviamente quando è andato a segno col destro abbiamo capito che era dalla nostra parte il risultato devo fare i complimenti a Cristian e ovviamente anche a Carmine perché ha fatto una preparazione impeccabile tutte e due hanno avuto modo di lavorare abbastanza abbastanza obiettivamente sul campionato ben concentrati ecco Cristian io aggiungo solo alle parole di di Dario che probabilmente nel momento il più importante dove bisognava crederci ci hai creduto dopo diciamo una seconda ripresa alquanto incerta si è stato un match tosto dove ce le siamo giocati tutte e tre le riprese quella decisiva era l'ultima abbiamo fatto bene quella terza ripresa l'abbiamo fatta bene ci siamo portati casi al risultato ecco una parola sul torneo in genere se è arrivato qui in tutti dicevano la finale sarà Arpula Fiore così è stata ci tenevi io mi sono permesso di dire in telecronaca che siete il numero uno il numero due del ranking della categoria di 67 kg così è stato veramente è stata una bellissima finale sì è stato è stato diciamo un match che diciamo le aspettative erano quelle di arrivare in finale e volevo togliermi un sassolino dalla scarpa perché naturalmente è natura per gli europei e quindi Fuggire è esperto ci siamo giocati bene dobbiamo ascoltare pure qualcosa da Carbine Cirillo basta così vieni Carbine veramente ripeto c'è da a volte i risultati dei propri allievi con diciamo aiutano anche ad andare avanti i maestri un lavoro che voi state facendo in quel del Palazzo Santoro e queste vittorie queste belle vittorie sofferte ma meritate vi ripagano di tanti sacrifici sì siamo stati ben ripagati primo questo sto titolo non l'abbiamo vinto in due settimane sto titolo è stato obiettivato a gennaio lui facendo parte della nazionale sai quando vai a nazionale uno aspira a fare gli europei a partecipare agli europei a prendere una partita agli europei io parlandoci a quattro occhi ho detto questo non è il tuo anno da nazionale tu il tuo obiettivo principale devono essere i campionati italiani hai i campionati europei ci devi andare ci andrà a fiore perché è bravo infatti l'ha dimostrato prendendo la medaglia di bronzo l'obiettivo è stato raggiunto con i massimi meriti e ora con questa maglietta con questa medaglia a collo si può proseguire nel nuovo anno e darci nuovi obiettivi ora obiettivi più ambiziosi ma riesce ancora ad emozionarsi il maestro Cirillo una dedica esatto volevo fare dei ringraziamenti volevo ringraziare il gruppo sportivo Fiammeoro volevo ringraziare i miei allenatori Dario e Carmine scusa Dario ma soprattutto Carmine che mi ha trattato come un suo figlio un figlio adottivo dove ci siamo impegnati in tutti gli allenamenti e volevo ringraziare anche Giorgio Campanella che st'estate mi ha ospitato e mi ha aiutato nella preparazione estiva e poi volevo ringraziare tutta la mia famiglia che mi supporta sempre a parte la sorella Alessia poi adesso salutiamo tutti le differenze a me non piacciono noi siamo una squadra perché se io o Dario deve allenare un ragazzo in una certa maniera l'altro o io o Dario sta allenando il resto della squadra per obiettivi futuri quindi il tuo titolo i tuoi meriti sono di tutta la squadra nostra grazie grazie buon rientro da titolati grazie Dario grazie è finita è finita intanto la prima ripresa della finale dei 75 kg è una finale molto suggestiva questa qui pensa che si affrontano due ragazzi che quotidianamente fanno i guanti che condividono la famiglia brillantino come maestri infatti all'angolo rosso c'è Ciro delle Curti Marcianisano del gruppo sportivo delle Fiamme Oro e all'angolo blu c'è Giuseppe Cirillo della Excelsior Box la particolarità sta nel fatto che il maestro della Excelsior Box è Enzo Brillantino il maestro invece titolare unitamente anche a Gallo e a Rossano il maestro della Fiamme Sportiva è Enzo Antonio Brillantino il fratello di Enzo due fratelli all'angolo con i rispettivi con i rispettivi atleti comunque la prima la prima ripresa se l'ha giudicata degli Curti che ha fatto entrato con qualche azione precisa e ha gestito lui con attenzione la ripresa in questa seconda ripresa sicuramente Cirillo è stato invitato a fare qualche cosina in più sta provando a prendere terreno a prendere posizione migliore delle Curti invece sta cercando di farlo venire avanti per provare ad anticiparlo infatti è un è un attendista è difficile capire chi è più attendista dei due e si bisogna vedere chi parte da lontano ecco se uno magari parte fuori in misura si vede subito quello che vuole fare e infatti e infatti Cirillo ha aspettato quell'attimo che dalla partenza di delle Curti infatti l'ho anticipato belli i ricorsi due fratelli che si sfidano all'angolo poi diciamo molto spesso Enzo aiuta il fratello all'angolo con il suo pugile viceversa Antonio va a fratello quindi veramente sono quelle belle pagine del pugilato che ti fanno vivere l'intensità e l'amore per questo sport adesso diciamo un match un poco meno lineare rispetto al primo round bravo adesso ecco sono già un minuto che si stanno attaccando però ecco quando sono vicino si mettono quei colpi che uno sopra l'altro ma ecco non c'è tecnica in questo momento qua bella questa azione dell'Egurti però Cyril è stato bravo a riguadagnare la distanza va diciamo un po' lungo un gancio sinistro dell'Egurti rischiava di finire dietro la nuca finisce anche questo secondo round diciamo meno chiaro del primo però ho visto qualche colpo in più da parte di Cirillo sì infatti perché alla fine di ogni azione si abbracciavano e lì non concludeva nessuno dei due anzi i colpi che possiamo registrare sono stati messi da Cirillo certo bisogna vedere adesso chi anticipa o chi inizia l'azione perché se fanno così come secondo round che arrivano alla fine che poi si si abbracciano e non possono lavorare devono capire che chi mette i primi colpi in ogni azione in anticipo va a vincere poi l'azione vincente ultimo round per questo derby marcianisano prima abbiamo avuto un derby della stessa regione magari più di uno invece un derby cittadino per un titolo italiano veramente è un orgoglio per marcianisano un'ora al merito a questa gloriosa terra di Purgili poi è difficile Maurizio non ricordare quando vedi i due fratelli brillantino non puoi non ricordare Mimmo esatto esatto è stato parte che ho collaborato con Mimmo col maestro tanti anni con l'attività giovanile a Formia ho avuto molto sono stato con lui in tantissimi stage allenamenti dalla nazionale è sempre stato un uomo in gamba ecco ancora un'azione d'attacco di Cirillo però è stato bravo in questo caso delle curti a mettere il destro parte adesso si attaccano di meno partito delle curti però non ha trovato secondo me lo spazio giusto per mettere il colpo adesso diciamo troppo statica questa ripresa pochissimi colpi in questa fase del match molto stanchi hanno infatti sono mossi molto molto bravo adesso delle curti a mettere questo bel sinistro Cirillo non sta trovando gli stessi spazi gli stessi colpi della seconda ripresa Maurizio però adesso c'è c'è meno attaccamento c'è meno meno blocco meno adesso si stanno cioè fanno quel poco proprio per adesso riprendono la stessa azione finisce con questo bel scambio alla fine i due atleti l'impressione quasi si fosse sbagliato maestro delle curti è andato dall'altra parte dal maestro Enzo Brillantino due persone eccezionali aspettiamo questo verdetto vediamo la signora Maria Rizzardo pronta con i due atleti ripeto questi due ragazzi fanno quotidianamente i guanti bella emozione ecco il verdetto quindi è Ciro delle curti il campione italiano dei 75 chilogrammi ancora un titolo per Antonio Brillantino Francesco Rossano e Luigi Gallo in un derby tutto marcianisano questa era la finale dei 75 chilogrammi Maurizio adesso andiamo ad ascoltare le impressioni di Ciro delle curti non prima di aver seguito la cerimonia della premiazione io mi avvicino alla postazione la postazione parterre premiazioni intanto si appresta a iniziare la finale degli 80 chilogrammi io vi chiedo scusa vi allontano un attimo grazie a tutti Eccoci qui con Ciro Delle Curti, c'è il maestro, non vediamo il maestro, ce ne sono tre quindi uno Deve esserci per forza Ciro, o il maestro Antonio o il maestro Rossano, ce ne abbiamo tre Ciro, alla mente ritorna il grande fuggilato di Marcianise, non è facile una cittadina, tra le altre cose una provincia campana Un derby per un titolo italiano, tra l'altro tu e Cirillo siete molto amici, fate spesso i guanti E' stata una emozione diversa quella di trovarti il tuo amico di fronte Sì, è stato molto duro, perché essendo che siamo amici abbiamo un po' di... come dire... Esatto, vorrei ringraziare soprattutto i maestri, il maestro Antonio e il maestro Francesco Rossano E soprattutto il maestro Luigi, ringrazio la mia famiglia e i miei amici che mi sostengono, che mi hanno sempre sostenuto Una cosa te la devo chiedere, ma abbiamo visto un fratello ad un angolo e un altro fratello all'altro angolo Voi, Sorringo, come avete vissuto questa cosa di avere due fratelli avversari? E' stato... un'emozione... nel senso... Siete abituati? Sì, siamo abituati perché i guanti in palestra... diciamo siamo come una famiglia Ci siamo... Grazie Ciro, complimenti, buon rientro a Marcianise Il signor Stefano Terlizzi sta dirigendo la finale degli 80 kg Penultima finale in programma Il titolo se lo stanno contendendo all'angolo rosso Cristian Sarsili Già campione europeo junior due anni fa che all'angolo rosso E all'angolo blu la sorpresa di questo torneo Mosè Sorbo Sicuramente il pugile piemontese della Novara Box Cristian Sarsili Parte con i favori del pronostico ma fino adesso Mosè Sorbo ci ha abituati a delle belle sorprese Non sarà facile perché di fronte a un grande pugile, un grande atleta Per l'occasione sono arrivati qui a copertino i nonni di Cristian Sarsili La prima ripresa dove Sorbo ha trovato qualche difficoltà in più per avvicinare Per cercare di togliere il ritmo a Sarsili Oltretutto non è facile lo diciamo però Onore a Mosè Sorbo che ci sta provando In tutti i modi Sarsili parte con i favori del pronostico Effettivamente Mosè Sorbo è stata una bella sorpresa Vedere questo giovane atleta del maestro Di Palo Che è arrivato in finale pronto a giocarsela con chiunque Vediamo come va questa seconda ripresa che parte in questo istante Ancora con Sarsili che vuole dettare lui i tempi Vuole diciamo fare lui il match Bello adesso il destro di Sorbo che è entrato C'è stata subito la risposta pronta di Sarsili Un primo round Maurizio dove Sarsili diciamo ha gestito alla perfezione il match Sa che è un avversario pericoloso perché lo abbiamo visto diciamo nei giorni scorsi Sorbo quando giustamente è alla cortissima distanza Gira bene i ganci Quindi Sarsili sta lavorando molto bene Lo sta tenendo lontano Certo Di grande qualità Non demorde Sorbo cerca sempre di entrare nella guardia di Sarsili Non è facile perché Deve fare quello Vedo che Sarsili c'ha il casco che È infatti È salito da sotto Da sotto è arrivato il mento Da sotto il mento Ma è una M quella poteva impiegare una L Perché guarda infatti gli arriva al limite del mento Sì Un caschetto troppo stretto Troppo stretto Fa anche male Certo Crea problemi Molto freddo Sarsili Sì sì Adesso lo sta bloccando col sinistro tutte le volte che vuole fare un'azione sorbo E lo blocca Sa gestire benissimo l'emozione Sarsili Forse questo gli consente di avere tranquillità Bello anche diciamo questi campionati perché diciamo le famiglie seguono come in questo caso a casa di Sarsili i nonni che sono venuti da Novara Ovviamente un bel viaggio Un bel viaggio Un bel viaggio sì Per seguire Diciamo Il Il nipotone in questo caso perché stiamo parlando di un 80 kg Poi sono campionati italiani Sono titoli che Sono titoli che di fine anno dopo un'attività che si è fatta durante l'anno Questa sicuramente sarà una cosa finale Credo che diciamo adesso sia stato un po' suggestionato È ancora il casco È ancora il casco O lo cambiano È ricascato sul casco È certo Dicevo che adesso il pugile pugliese Sorbo ha un po' tirato i remi in barca Vediamo Meno convinto Ci ha sventito subito con questo bel gancio destro No va bene Comunque Comunque un'azione la deve fare Un'azione d'attacco la deve fare Cioè deve tentare Come sta tentando adesso Deve fare il suo match Certo Sarsili lo deve mantenere Però ancora problemi col casco Perché adesso ormai Anche il laccio gli è arrivato Suora anche questo secondo round Anche in questo secondo round Sarsili Si è giudicato Eh sì Il round Quindi Ormai è lanciato Verso questo ennesimo titolo italiano Questa volta JUT 80 kg Due riprese a favore di Cristian Sarsili Si cerca di fare Sorbo Diamo una comunicazione di servizio Scusami Maurizio Mi ricordo che al termine Di queste finali Del campionato italiano JUT Ci saranno anche le finali Del round robin San Giuseppe Da copertino Appendice Curata dalla Bebox Inizia la terza ed ultima Ripresa Ripresa da gestire Per Cristian Sarsili Sarsili Tre minuti ancora per Fare bella figura Per Mosè Sorbo Già l'ha fatta in Questo torneo Raggiungendo la Finale Si è trovato di fronte Un campione Eh europeo Molto bella questa azione Di Sarsili Che ha costretto Ad andare fuori misura All'avversario Ma non con uno spostamento Mettendo il colpo E certo Mettendo il colpo Adesso c'è stato un bel Destro Di Sorbo Però c'è subito la C'è stata la reazione Di Sarsili Col gancio Col gancio sinistro Sicuramente poco Per impensierire Sarsili E c'è Infatti Ancora il Sinistro Questa volta Di Sorbo Ripete L'avevamo detto Sta cercando di fare Bella figura Fino alla fine Ancora una Bella schivata Con il Destro Da parte di Sarsili Montante sinistro Molto bella Ancora Gancio sinistro Per Sarsili Questo vedi La tranquillità Non perde mai La concentrazione No E poi E poi come Ogni colpo E' quasi studiato E' quasi studiato E poi vanno tutti a segno Certo Qualche reazione di Sorbo Che ci deve essere Perché se no Fai il sacco Mettiamo un sacco Sul ring E siamo a posto Ultimi quindici Secondi Sicuramente Cristian Sarsili Non si è lasciato sfuggire L'occasione Per portare a casa Ancora questo Nuovo titolo Youth Ecco l'abbraccio Finale Complimenti Sorbo Per il torneo Che ha fatto Per L'emozione Che ha regalato I suoi tifosi Pugliesi Arrivando in finale Il finale Ha trovato Un atleta Sicuramente Esperto Molto più Preparato Di lui Dal punto di vista Di tenuta del ring E anche Di titoli Ecco il verdetto Cristian Sarsili Bella La donnina Che Esulta E Applaude Che poi E la mamma Del papà All'angolo Veramente Sono questi I cadetti Probabilmente Qualcuno Mi accuserà Di essere patetico Ma va là Ma che patetico Sono belle suggestioni Due fratelli Contro All'angolo La nonna La nonnina Che saluta Il proprio nipote La mamma di Cristian Arpula Che prega Sì certo Veramente Sono Diciamo Quadri Quadretti Che danno Colore Sapore E amore Al pugilato Io vado In postazione Parterre Per questa Premiazione Poi ci ritroveremo Qui per Commentare L'ultima Finale Quella Dei Supermassimi Qui per adesso con Cristian ci ho perso mai il conto di quante volte ti intervisto dopo le vittorie facciamo venire anche il tecnico vuole essere invitato papà si vuole far pregrave Cristian sei arrivato qui a copertino da super favorito numero uno non ti sei mai scrollato di dosso questa etichetta l'ultimo match è gestito bene con quella che se mi consenti può essere considerata la promessa degli 80 kg la sorpresa degli 80 kg allora ero il favorito ero quello con più esperienza l'ha detto anche il sorteggio ero il test di serie con questo non ho sottovalutato nessuno perché comunque ho visto ragazzi che se sottovalutati comunque possono dare problemi come tutti sono arrivato qua pronto mi sono preparato mesi non mi sono mai fermato e ringrazio per questo tutta la mia palestra mio padre specialmente per tutti i sacrifici che abbiamo fatto per tutto quello che mi ha aiutato a fare saluto un grosso sacrificio l'hanno fatto i nonni venire da Novara mi sono sacrificati a venire fino a qua facendo non so quanti chilometri in macchina però me ne è valsa la pena meno male non credo di averli delusi e questo volevo anche dedicarlo a mio nonno che sicuramente sarebbe venuto qua anche lui ma sicuramente da lassù mi sta guardando e sarà fiero sicuramente di me e come ultima cosa volevo salutare gli amici del bar Trovaso che mi stanno guardando da casa e mi fa molto piacere ci vediamo presto grazie maestro orgoglioso di questo ragazzo io mi sono permesso di dire in telecronica lui l'ha confermato è un atleta che non si lascia suggestionare sa gestire l'emozione e soprattutto non sottovaluta mai l'avversario esatto sì già dalle prime fasi diciamo del campionato ci siamo appunto promessi di non sottovalutare nessuno perché comunque il livello è alto i ragazzi sono tutti preparati arrivano qui comunque vincendo i campionati regionali per cui sono i campioni delle proprie regioni e e uno dopo l'altro abbiamo dovuto stare attenti sempre 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 di più perché comunque alla fine chi arriva in fondo è sempre è sempre forte comunque è sempre quello da 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 che ti dà più da tribolare c'è sempre un avversario da battere bravo grazie maestro buon rientro ciao Chris ci vediamo alla prossima grazie a tutti 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 è finito il primo round della finale dei supermassimi più 92 kg con l'arbitro il signor Giuseppe De Palma all'angolo rosso c'è Vincenzo Guida della Campania all'angolo blu invece c'è Sebastiano Lux come è andata questa prima ripresa è stata normale non tanto combattiva una ripresa normale una ripresa normale niente di eclatante comunque a chi hai visto meglio quello vogliamo sapere no 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 Guida certo quindi Guida si è giudicato questo primo round e se lo dice Maurizio Stecca se lo può permettere adesso Guida sta cercando di adesso si lascia un attimino sorprendere c'era stato lo stop del signor De Palma quindi sono alcuni colpi che sono andati oltre lo stop chiede scusa magari sportivissimo Lux lo abbiamo visto già negli incontri precedenti ovviamente stiamo parlando di due giganti di due supermassi è certo ma è naturale che ha fatto l'azione ma non ha non ha capito la cosa dello stop passi indietro ma vabbè capita comunque Guida che sta cercando sempre l'impostazione sta cercando lui di fare il match Lux sta attendendo secondo me un po' troppo sta c'è un po' troppo poi quando deve partire quando deve partire anche con quel destro penso che lo tiri come a tipo martello ma non lo tira bene diretto proprio ecco anche lì ecco bella questo movimento di guida questa schivata ma il guida infatti sta attento davanti davanti al suo avversario proprio di mettere questi colpi infatti visto due tre colpi non l'ha preso come se andasse a farfalle ecco mentre Guida è un po' ecco lì impostato davanti a lui e e quando metti i colpi poi ecco vanno a segno eh ma non si capisce cioè poi si è fermato adesso Lux davanti all'arbitro sicuramente si vede anche la maggiore esperienza di guida bella adesso questo eh manda vuoto manda vuoto Lux e guida ma si vede anche nel gestire le azioni mentre Lux ha bisogno di capire anche l'intenzione dell'arbitro invece guida è più smaliziato è più smaliziato ecco vedo che più c'è c'ha la scherma sua c'è è più pugile in questo non so Lux come fa come deve deve trovare lo spazio se no bella questa azione anche se poi ha incassato il sinistro di Lux però è stata una bella azione un bel movimento di tronco adesso si lascia sorprendere guida da Lux finisce anche la seconda ripresa anche in questa seconda ripresa a parte questo sussulto finale di Lux guida ha gestito meglio quindi è stato è stato più preciso è stato più preciso nella sua scherma è riuscito a entrare con questi colpi puliti ecco che ha portato casa la seconda la seconda ripresa c'è la vittoria della ripresa ancora non è detto che però non riesco a capire quando diciamo metti in cascina due riprese ne manca una sola c'è bisogno della grande impresa da parte del pugile che diciamo è in svantaggio anche se poi non è facile perché dobbiamo dirla tutto si vede anche una differenza di esperienza proprio di malizia sul ring oh destro d'incontro eccolo è destro e qui ci voleva il contese molto preciso molto preciso e anche molto potente dobbiamo dire giusta giusta giusto far riprendere fiato perché poi a volte sai non è tanto diciamo la vera potenza del colpo ma il fatto che tu prendi un colpo preciso se non rientri subito a riordinare le idee rischi di prenderne altri certo l'istituzione del conteggio secondo me è un è un momento importante adesso si butta un po' troppo addosso Lux ancora un minuto e quaranta secondi per chiudere questa splendida edizione dei campionati italiani youth organizzati dalla Bebox su indizione della federazione pugilistica italiana trasmessi in diretta streaming sul canale ufficiale della federazione a cura della FP servizi ringraziamo i registi Giovanni Raeli Valerio Fioroni e Francesco Valeri la squadra streaming che vi consente di seguire tutti gli eventi di pugilato promossi programmati e mandati in onda sul canale ufficiale grazie anche per il coordinamento da Roma per le grafiche e per il la postproduzione a Sara Badì grazie a Michela Pellegrini e a Tommaso Gregorio Cavallaro per il coordinamento dall'ufficio comunicazione della federazione adesso c'è una diciamo una spinta troppo troppo ma ha fatto arrabbiare anche il maestro Ciaramela all'angolo di guida bello il sinistro di guida adesso però si è abbassato leggermente secondo il signor De Palma finisce anche questa finale dei super massimi più 80 chilogrammi guida secondo il mio punto di vista se l'è giudicata adesso andremo a fare la premiazione poi ci saranno dieci minuti di pausa per riorganizzare un po' il tavolo della giuria e i nuovi arbitri per disputare la giornata conclusiva del round robin school girl e junior san giuseppe da copertino quindi procederemo poi anche alle premiazioni e maurizio allora noi ci vediamo fra dieci minuti intervallo qui per questo qui intanto ascoltiamo la proclamazione quindi vincenzo guida è il nuovo campione italiano dei 92 chilogrammi più noi adesso ci spostiamo nel parterre della premiazione per seguire l'ultima premiazione e l'ultima intervista maurizio ci ritroviamo in postazione tra dieci minuti per il round robin femminile eccoci qui nel parterre della premiazione con il presidente del comitato regionale Puglia Basilicata il dottor Nicola Causi Nicola Causi che è anche attore di teatro di cinema autore di tanti lavori teatrali ecco ecco i due atleti i due finalisti i due giganti super massimi medaglia d'argento vice campione italiano Lux riceve i complimenti del presidente adesso è il momento della ennesima canotta tricolore per Vincenzo Guida campione italiano l'applauso del maestro professore Nicola Causi abbraccio dei due posiamo per una foto ricordo i gadget offerti dalla Bebox grazie anche a Susanna Gargano tempestiva e produttiva qui ecco grazie a Lux grazie restiamo adesso con Vincenzo Guida lo chiamiamo per il maestro che dici l'educazione ha detto posso venga da qui maestro Vincenzo l'ennesimo titolo portato a casa questa volta dobbiamo dircela tutta lo sai ci diciamo sempre tutto una semifinale non proprio convincente poi nella finale c'era bisogno del miglior Vincenzo Guida hai detto io sono qui sì innanzitutto ringrazio tutti mio maestro mio nonno specialmente mio padre che ha sempre creduto in me e volevo dire sì questo campionato non è stato molto convincente come gli altri ma la semifinale grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon rientro. Grazie a tutti. 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 Speaker 2. guter 함께 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. non vediamo salire ancora l'arbitro sul ring invitiamo gli organizzatori ad accelerare queste operazioni queste operazioni preliminari i maestri e le atlete già sono ai rispettivi angoli ultimi dettagli e allora dobbiamo avvertire il maestro portoghese questo match lo vince la sua ragazza per ball cover la Sant'Antonio ci sta allora primo match in programma all'angolo rosso Arianna Sant'Antonio della Bebox all'angolo blu Alessandra Gallo Alessandra Gallo dell'Accademia Fugilistica Box portoghese non vediamo salire ancora l'arbitro eccolo qui il signor De Palma che sta raggiungendo la scaletta finalmente inizia eccolo qua il signor De Palma tutto è pronto questa volta veramente Maurizio tutto è pronto Arianna Sant'Antonio Bebox sangolo rosso Alessandra Gallo Accademia Fugilistica portoghese invece è all'angolo blu la vincitrice di questo girone a tre già è stata decisa dopo i primi due incontri Jennifer Tartaglione con due vittorie quindi otto punti non toccava al signor Giuseppe De Palma arbitrare questo incontro è la signora Valentina Chiuri l'arbitro di questa prima sfida ecco la consegna dei cartellini ai giudici al signor La Terza alla signora Rizzardo e al signor De Palma tre riprese da un minuto e mezzo Maurizio per chiudere il girone dei 48 kg Schoolgirl qui al Palasport San Giuseppe da Copertino per questo round robin veramente una bella iniziativa a cura del maestro Stefani con il contributo del covitato regionale Puglia Basilicata un vero e proprio torneo l'abbiamo già detto ieri Maurizio l'abbiamo già detto ieri non è facile trovare queste ragazzine quindi vanno ringraziati tutti i maestri le ragazze e soprattutto lo sforzo organizzativo del maestro Francesco Stefani ricordo che le premiazioni di questo round robin le faremo a conclusione nel parterre delle premiazioni grazie sempre a Francesco Valeri Valerio Fioroni e Giovanni Raeli per la pazienza con cui hanno accompagnato questa bella manifestazione ecco il saluto delle due atlete angolo rosso Sant'Antonio angolo blu gallo ieri Alessandra Gallo è stata sconfitta da Jennifer Tartaglione nel suo debutto Alessandra Gallo oggi è all'angolo blu grande grande movimento è molto infatti la Gallo ha un po' cambiato un po' guardia un po' guardia normale un po' guardia manzina sicuramente molto diversa rispetto a ieri l'atleta del maestro portoghesi oggi sembra più vogliosa più volenterosa eh sì ma anche anche la Sant'Antonio bella questa questo scambio bella questa azione dell'Alessandra Gallo un colpo di tosse per Sant'Antonio mettergli il commento no si diciamo gli deve metterli in butto se ha lo sforzo qualche commento di vomito eh vediamo il dottore annunziato che va a controllare l'area a Sant'Antonio niente di preoccupante non so è un colpo di tosse che gli ha procurato forse qualche colpo di vomito poi sì sì può capitare non è che oh però si è accesa si è accesa si è accesa la miccia ha accesa ha pigiato sull'acceleratore Arianna Sant'Antonio finisce questo primo round primo round dove ha voluto ha voluto far credere che non è successo niente per far capire che voglio andare avanti bella reazione dai ottima osservazione perché quando dai poi stai anche ti dispiace no vedere questa la cosa che poi non sono anche quello che potuto succedere però ha ripreso e ha dato dimostrazione che che voleva combattere ecco pronti per il secondo round Arianna Sant'Antonio Angolo Rosso Alessandra Gallo invece all'angolo blu diciamo che bocca sanno bene quindi è anche difficile vedere una bella reazione adesso è stata la Gallo che ha messo un bel direttore molto bene i colpi che vanno a segno specialmente poi c'è anche da valutare la preparazione l'impostazione scivolata va bene fatti riprende il round il secondo round parte l'Alessandra Gallo con il sinistro va a segno infatti guarda anche prima guardavo che si metteva in guardia Mancini in guardia normale adesso è messa in guardia Mancina finisce questo secondo round ecco gli viene gli viene un po' lo sforzo che non riesce sì ma è stato diciamo quel colpo di tosse diciamo che adesso il maestro Stefani si sta sincerando tensione nervosa poi c'è il paradenti che gli blocca magari un po' il respiro probabilmente ho l'impressione che è il paradenti che procura il senso di quando lo sputa non ha più infatti guarda che adesso sta respirando e sta recuperando guarda non è tanto abituata a tenere il paradenti probabilmente è un paradenti diverso sì magari che gli dà un po' fastidio adesso magari lei non lo dice ma lo deve dire se succede questo anche in allenamento terza ed ultima ripresa scambiano senza esclusione di colpi grande carattere veramente diciamo vedere che hanno tanto cuore queste ragazzine perché è difficile trovare a 13 anni esatto ragazzette che hanno questa intensità eh la Gallo sta adesso sì sì la Gallo sta mettendo sì ha preso il sovravvento ha preso il sovravvento perché si ferma però sicuramente però già vedi una ragazzina che ha avuto queste difficoltà che continua il match fino alla fine ma certo certo magari una dice no io smetto subito perché eh sì sì beh gli guarda ancora il paradenti sì guarda dopo diventa nervosa la cosa e c'è qualcosa che non va ecco io penso che sia il paradenti il paradenti il nuovo che ha messo per la prima volta in questo incontro e tanto ormai siamo quasi alla alla fine ultime battute eccoli qui dieci secondi ci vuole l'applauso per queste ragazzine quindi quindi il lagallo dovrebbe aver vinto questo incontro aspettiamo il verdetto non è previsto non è previsto il pareggio la vittoria vale quattro punti il la sconfitta un punto la vittoria per walkover due punti in caso di parità diciamo abbiamo i cartellini ecco il verdetto quindi Alessandra Gallo vince questo incontro la classifica definitiva qui nella categoria 48 kg schoolgirl vede Jennifer Tartaglione al primo posto con 8 punti Arianna Sant'Antonio terza in classifica con 2 punti seconda in classifica Alessandra Gallo con 5 punti adesso passiamo al torneo 51 schoolgirl l'incontro che potrebbe chiudere la classifica in con questo incontro a ponteggio pieno Morena Stefani che vedremo all'angolo rosso affrontare Martina Spatola della Extrema Box la ragazza siciliana con il maestro affaticato ecco il signor De Palma questa volta è l'arbitro Morena Stefani Bebbox figlia d'arte figlia del maestro Francesco Stefani Martina Spatola estrema Box Time angolo blu incontro diciamo girone ancora aperto anche se la super favorita resta Morena Stefani che già ha incamerato otto punti saluto al centro del ring anche questo è Skull Girl tre riprese da un minuto e mezzo parte l'incontro manca ancora diciamo quel pizzico di malizia Martina Spatola è più grande dovrebbe diciamo già provare a tenere lontana la sua avversaria allungare le braccia lo sta facendo in questo momento due volte è arrivata prima lei con il sinistro poi adesso avendo avendo un po' le braccia un po' più lunghe essendo più alta tiene distante la la Stefani ancora il sinistro della Stefani che anticipa l'azione della Spatola però cavolo sinistro d'incontro bel sinistro l'hai provato già diverse volte ha visto lo suo avversario di fare allo sbaraglio sinistro d'incontro ha questo modo di fare ecco questo finisce il primo round una ripresa una ripresa che la Spatola aveva iniziato bene poi c'è stato il sinistro della Morena Stefani l'ha tirato in quel momento che la Spatola già l'aveva provato due volte però non l'aveva la terza volta è andata d'incontro come hai detto tu adesso l'ha presa d'incontro e si è trovata con le gambe pari no no non può dire no è stato il colpo mi dispiace probabilmente il maestro affaticato è molto esperto probabilmente sta dicendo così per dare tranquillità alla sua ragazza certo perché se no il colpo c'è stato sì il colpo c'è stato perché gli ha portato via proprio l'equilibrio delle gambe ecco secondo round in questo momento il primo round sicuramente anche lei ha fatto molto di più la l'atleta all'angolo rosso molto attenta adesso la spatola però morena però morena guarda ancora il sinistro d'incontro poi anche quando è iniziata la ripresa senza nulla da togliere alla spatola c'è però reagisce molto bene la spatola reagisce molto bene vorrebbe quasi dare colpo su colpo è però la 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 adesso c'è una spinta è ancora una volta in sinistra ma si vede c'è un bel sinistro guarda eccolo e c'è anche ti dico c'è anche anche la scelta anche la scelta di tempo è passata sopra col col destro sopra finisce anche questa ripresa anche questa ripresa secondo me condotta bene da morena morena stifani all'angolo rosso dobbiamo dire però che la spatola ci ha provato in tutti i modi a ma certo contrastarla certo certo devi essere diciamo più convinto sta dicendo il maestro affaticato alla sua atleta perché non c'è si metti colpi nell'angolo l'angolo blu del patola che che non va non va a segno arriva al limite ma non ce la fa arrivare a segno mentre la stifani ne tira pochi ma quelli che tira vanno vanno a segno terza ed ultima ripresa che inizia in questo momento diciamo anche questa bella postura la morena perché vedi non tiene la testa molto no non cadi ma non cadi in avanti col sinistro pur abbassando molto il busto esatto la spatola fa fatica ad avvicinarsi perché ha paura del sinistro l'incontro l'assaggiato il giorno guarda guarda ecco adesso c'è stato un bel gancio destro c'è stato l'1-2 il gancio destro sopra della stifani con calma ancora è un bel 1-2 con l'1-2 mentre la spatola mette un colpo solo mentre la stifani ne mette due ancora un colpo ben assestato suona il gong su questo conteggio finisce questo incontro guarda bello pulito non in confusione di solito nelle school girl nelle school boys c'è molta attività c'è molto modo di muoversi via questo invece è stato molto mi è piaciuto mi è piaciuto molto aspettiamo il verdetto però mi sembra chiaramente a favore dell'atleta all'angolo blu eccolo qui il momento della proclamazione quindi con questa vittoria la stifani vince il girone il prossimo incontro sarà tra Sofia Santonastasio delle Fiamme Oro e Gilda Spagnolo della Contrada Box c'è un walkover quindi l'incontro viene assegnato per per walkover vince Gilda Spagnolo e quindi con questi tre punti arriva al secondo posto del girone quindi classifica definita walkover vittoria per Gilda Spagnolo primo posto per Morena Stefani con 12 punti secondo posto per Gilda Spagnolo 8 punti 6 punti per la Santonastasio che ha perso per walkover e 3 punti per Martina Spatola prossima sfida quindi praticamente conclude anche il girone 60 chilogrammi categoria Asia Cucci sarà all'angolo rosso per quanto concerne la Baybox mentre Roberta Caramarossa sarà all'angolo blu intanto salutiamo il presidente Vittorio Lai ci vediamo alla prossima porti i nostri saluti ad Andrea Fordi che ho la speranza di vederlo al prossimo torneo grazie di tutto presidente salutiamo anche il presidente Nicola Causi I will see you in other day ci vediamo un altro giorno quindi angolo rosso Asia Cucci Baybox angolo blu Roberta Caramarossa Box Modugno incontro importante diciamo in questo girone c'era anche Francesca Miele che ha perso il primo incontro e ha vinto il secondo quindi attualmente conduce la classifica 5 punti potrebbe esserci addirittura potrebbe verificarsi in questo caso diciamo in base a questo incontro che tutte e tre le atlete arrivino a 5 punti quindi a quel punto dobbiamo fare il computo dei cartellini per vedere chi diciamo vince il torneo junior 60 categoria A Asia Cucci Bebox angolo rosso Roberta Cramarossa Box Modugno con il maestro Prisciandaro all'angolo blu l'abbiamo già detto ieri Robertina Cramarossa allieva di Erika Prisciandaro tra le altre cose si allena nella stessa palestra molto spesso diciamo riceve i consigli della già campionessa europea pluricampionessa italiana tutto è pronto l'arbitro è il signor Francesco la terza inizia il match sicuramente desiderosa di riscatto Robertina Cramarossa la vediamo incitata dalla sua presidente sua presidentessa Maravignola bello il gancio destro di Asia Cucci che è più alta ha avuto subito l'atteggiamento offensivo la la Cramarossa poi ecco si è fermato un attimo in questo un attimino proprio davanti al suo avversario la Cucci che ha inserito adesso è riuscita a mettere due colpi dritti andare a segno due volte è andata a segno due volte perché nello stesso tempo si ferma la Cramarossa spiegabilmente si ferma sull'attacco della sua avversaria ecco è al destro ancora sinistro una guardia un po' diciamo troppo disimbosca eccolo adesso adesso c'è il conteggio c'è la sospensione la richiesta di sospensione cautelare cautelare se allora ha preso ha preso ha preso due destri ha preso due destri puliti e l'abito non è intervenuto l'ultimo l'ha preso al limite è arrivato il limite ma è lì la la dovuta però ho avuto l'impressione che il conteggio non è arrivato tempestivamente dopo il colpo no no dopo sì dopo totte secondi dopo quindi con questa vittoria la Cucci si aggiudica il torneo dispiaciuta Robertina Gramorossa però sicuramente dobbiamo dire che non è questa perché io l'ho vista di attività ordinaria ma stai scherzando cioè non è quindi Asia Cucci vince incontro e torneo round robin stiamo diciamo sistemando la classifica adesso gli ultimi due incontri di questo round robin San Giuseppe da copertino quindi nel girone B dei 60 kg girone A4 la prima sfida sarà arbitrata dalla signora Valentina Chiuri all'angolo rosso ci sarà Maria Librato della box mesagne all'angolo blu Giovanna Porriciello della Minotaur ecco 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 angolo angolo rosso librato angolo blu Porriciello il programma il programma questo prevedeva quindi angolo blu Porriciello Porriciello Giovanna della Minotaur angolo rosso erano stati consegnati i cartellini del match successivo quindi match molto importante anche in questo girone momento favorita la Maddalena Golino che è a punteggio pieno però attenzione perché sia la Librato che la Longobardo hanno vinto un incontro e perso l'incontro quindi con i quattro punti della vittoria andrebbero a nove potrebbero pareggiare aspettiamo comunque l'esito di questa sfida categoria junior tre riprese da due minuti problema al caschetto della Librato il maestro conserva L cos'è S no S si cambia il caschetto Aggiustiamo bene i capelli dice la signora Valentina certo perché non c'è la cuffia in preparazione prima no prima ripresa iniziata finalmente con la Porriciello che cerca di prendere il centro del ring calcola male la distanza l'ha librato non arriva a colpire adesso è la Porriciello che anticipa con una buona serie viene attaccata però così con colpi larghi adesso un colpo largo un gancio largo un gancio che è passata sopra al sinistro della della Porriciello un bel colpo è stato quello però uno solo uno solo l'ha librato che pressa molto bene questa volta il bel gancio destro c'è stato deve bloccare la Porriciello deve almeno mettere qualche colpo dritto per bloccare l'azione della librato deve crederci di più un attimino ecco deve prendere la misura adesso ha messo un bel sinistro la Porriciello un attimino finisce questa prima ripresa una prima ripresa dove sebbene la policella abbia cercato di lavorare in linea a me sembra che i colpi più importanti e più significativi sono stati quelli della Librato si si ha fatto due attacchi che sono andati poi a segno sono stati quelli con i ganci però ecco la policella ci deve credere di più ci deve credere di più usare bene quel sinistro se vuole prendere la misura mentre un po' più attiva l'ha liberato indubbiamente ha fatto di più ha attaccato di più ha attaccato di più seconda ripresa che inizia in questo momento angolo rosso c'è la Librato della Box Mesagne all'angolo blu c'è Giovanna Porriciello della Minotaur del maestro Moscerino il maestro all'angolo invece della Librata è Angelo conserva ancora questo destro questo gancio destro sta cercando di adesso si sta difendendo bene si stava difendendo bene però hai visto c'è oh esatto si si allarga con i colpi ma lei ma la Porriciello deve mettere quando è vicino deve mettere i colpi dritti per sbarrare l'aggressività della della Librato ecco adesso adesso è entrata è entrata con l'1-2 la Porriciello nella guardia della della Librato infatti la Librato vista che adesso fa anche adesso va bene ha messo questo colpo qua però si è un po' fermata perché è stata fermata dalla dalla Porriciello c'è questa seconda ripresa possiamo dire che la Porriciello aveva fatto qualche cosiddio in più poi sul finale l'ha librato si si è un po' ha cambiato un buon attimino un po' la Porriciello ha fatto qualcosa di più dal dal primo round la la Librato è stata in precisa in questo secondo round in questo secondo round ultima ripresa io vedo ancora l'ha librato leggermente in vantaggio rispetto diciamo a una Porriciello che sembra essersi risvegliata nel secondo round sì però non è stata continua però non ha dato continuità all'azione giustamente come dici tu bello il sinistro è molto predeterminata l'ha librato rispetto agli altri giorni sì è che la Librato ha tentato di attaccare un attimino ma è andata vuoto con i suoi colpi ma vediamo vediamo la Porriciello che riesce a a chiudere a chiudere le azioni della Librato ma ecco che la Librato cerca di di attaccare è destro destro lì è destro pulito della della Porriciello un altro destro della Porriciello è la Porriciello ha messo ha messo ma ha messo in questi ultimi 20-30 secondi ha messo dei colpi pulì ha messo dei destri molto che sono dati a segno due o tre destri che sono dati a segno mentre l'ha liberato è sempre stata un po' adesso imprecisi in questo run qui eccoli qua gli ultimi 10 10 secondi adesso un altro gancio un gancio destro della Porriciello ha chiuso bene la la Porriciello chiuso bene questa terza ripresa quindi diciamo adesso possiamo anche vedere come i giudici hanno considerato questa terza ripresa aspettiamo il verdetto ecco il momento della proclamazione quindi hanno premiato seconda e terza ripresa vince la Porriciello quindi diciamo è necessario aspettare l'ultimo match per vedere chi si aggiudica il round robin nella categoria dei 60 chilogrammi ultimo match della serata importante ai fini della classifica definitiva e praticamente queste due atlete si giocano la vittoria perché una vittoria nell'una nell'altro porterebbe al primo posto quindi a pari merito poi si dovrebbe vedere i cartellini Golino Maddalena delle fiamme oro e all'angolo rosso Licia Longobardo mille colore e invece all'angolo blu iniziato il match match che decide la vittoria nel girone 60 chilogrammi categoria B questa era la categoria Maurizio dove le atlete avevano qualche match in più rispetto alle altre gancio destro della Golino che va a segno però anche anche a Longobardo nella sua difesa adesso ha messo un'azione con colpi dritti notevolmente cresciuta negli ultimi periodi Licia Longobardo e ci deve credere un po' di più anche la Golino non può rimanere si sta muovendo molto davanti però non ancora visto che ha fatto due azioni ma deve costruire ecco come sta facendo adesso adesso parte la Golino bella questa azione un po' troppo ferma la Longobardo sull'attacco della Golino adesso reagisce con un destro che però non va a segno finisce questo primo round primo round sicuramente con la Golino che ha fatto qualche cosina in più si effettivamente qualche cosina in più ha fatto la la Golino quindi sta cercando di chiudere il match per vincere poi di conseguenza il round robin seconda round brava adesso la Golino la Longobardo ad anticipare due volte con il sinistro reagisce molto bene Maddalena Golino ancora la Golino che non trova lo spazio per piazzare il colpo ancora una volta il sinistro di Licia Longobardo eh hai visto anche anche la anche la Golino sta però mi sembra più precisa la Longobardo quando la Longobardo vuol mettere i colpi adesso abbassa un po' la testa la Longobardo l'arbitro la ridarguisce adesso si fa chiudere pericolosamente la Longobardo all'angolo siamo più equilibrato e anche di conseguenza più spettacolare questo match adesso è la Golino che ha è costretto alle corde la Longobardo finisce anche questa seconda ripresa una seconda ripresa diciamo abbastanza equilibrata però secondo me ha fatto qualche così in più la Longobardo in difesa si però dopo bisogna vedere un po' nel complesso non stiamo segnando i colpi quindi raccomandazioni all'angolo vediamo il maestro Rossano ha chiaramente detto alla sua che non è alla sua allieva che non è contento di questa seconda ripresa e adesso a terza ed ultima ripresa ultimi due minuti di questa settimana qui a San Giuseppe da Copertino palazzetto dello sport abbiamo seguito l'edizione duemila e ventitré dei campionati italiani youth e poi questa bella appendice venerdì sabato e domenica con il round robin dedicato proprio al santo protettore di Copertino San Giuseppe da Copertino ve lo ricordo ancora una volta patrono degli studenti però eh però la 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 colino si è un po' impostata cioè è un po' più corretta nelle azioni sicuramente sotto togolo rispetto alle altre sì sì certo alle altre due rispetto alle altre due prestazioni sicuramente stasera è vero che comunque anche la Longobardo è diciamo è salita di tono eh sì ieri ieri sera la Longobardo ha ceduto al librato in precedenza aveva superato Giovanna Porriciello oh il gancio il gancio il gancio l'ultimo secondo della ripresa ne ha tirati due ne ha tirati ecco vogliamo aspettare proprio questo verdetto aspettiamo il verdetto poi stideremo la classifica dell'ultimo girone e con Maurizio ci regheremo nel parterre delle premiazioni per procedere alla consegna dei premi eccola qui pronti per quest'ultimo verdetto quindi golino Maddalena vince e porta a casa anche il primo posto nel girone dei 60 kg la categoria B adesso noi ci spostiamo nel parterre delle premiazioni per procedere alla consegna delle medaglie e dei gadget offerti dalla Bbox grazie grazie a Grazie. Grazie. La categoria School Girl 48 kg, quindi Tartaglione Jennifer, Arianna Sant'Antonio e Alessandra Gallo. Eccoci qua, quindi Tartaglione Jennifer, Sant'Antonio Arianna e Alessandra Gallo. Eccoci qua per quanto riguarda la categoria dei 48 kg, primo posto, vediamo Maurizio se vieni a fare la premiazione, primo posto per Jennifer Tartaglione, vediamo anche il maestro Stefani a raggiungerci, secondo posto per Alessandra Gallo, terzo posto per la coraggiosissima Arianna Sant'Antonio, quindi ecco il primo posto per Jennifer, poi il cadu della B-Box. Grazie, complimenti, facciamo questa foto ricordo. Ancora gadget dalla graziosa Susanna Gargaro, anche il maestro portoghesi, facciamo questa foto, maestro sempre in ritardo. Grazie, buon proseguo di carriera ragazze e complimenti per questa manifestazione, grazie. Adesso premiamo la categoria 51 kg, 51 kg Barbara Marzo, la invitiamo a venire qui con noi, Morena Stefani, Gilda Spagnuolo, Santo Nastasso e Arianna Spatola. Maestro affaticato, non vedo la signorina Spatola, è andata già via, doveva partire per la Sicilia. Vince nella categoria 51 kg Morena Stefani, eccola qui che riceve la medaglia. Secondo posto per Gilda Spagnuolo, terzo posto per la sfortunata Santo Nastasso Sofia che purtroppo oggi non ha potuto combattere solo per un malore. Grazie comunque, quindi terzo posto, quarta sarebbe stata la Martina Spatola che ringraziamo. Anche per voi il cadeau offerto dalla Bebox. Per il primo posto un bel paio di guantoni. Si faccia qui vicino signora, facciamo questa foto ricordo per queste graziose donzelle che hanno impreziosito questa grande manifestazione. Grazie, potete accomodarvi. La categoria Junior 60A, Asia Cucci, Francesca Miele e Roberta Cramarossa. Non vedo la signorina Cramarossa, è andata via. Eccola qui, Robertina Cramarossa. Quindi vince questo round robin Asia Cucci. Al secondo posto Francesca Miele. Al terzo posto Robertina Cramarossa. Anche per voi a primo posto i guantoni, il gadget offerto dalla Bebox. Stiamo facendo fare il valletto al maestro Stefani. Eccolo qui, il cadeau. Se ci avviciniamo per una foto ricordo, ricorderete questo momento qui a San Giuseppe da Copertino. Grazie. Ultima premiazione, quella dei 60 kg categoria B. Librato Maria Giovanna, Golino, che sorride, sorride sempre questa Golino, bello. Giovanna Porriciello e Licia Longobardo. Eccoci qua, tutti e quattro. Quindi vince questo girone Maddalena Golino. Primo posto per Maddalena Golino. Secondo posto per Licia Longobardo. Terzo posto ex equo per Giovanna Porriciello e Maria Giovanna Librato. Quindi c'è l'altra medaglia di bronzo lì sopra, se cortesemente ce la date. Quindi la classifica qui la spiego praticamente. A 12 punti Maddalena Golino, a 6 punti praticamente tutte le altre concorrenti, solo che per la composizione dei verdetti a pari punti finiscono Porriciello e Librato, mentre per un cartellino migliore Licia Longobardo è considerata secondo. Facciamo questa foto ricordo. Grazie a tutti quanti voi. Grazie, potete accomodarvi. Da copertino è davvero tutto. Questa è stata una graziosa appendice. Il tempo di ringraziare per questo extra time i ragazzi della FPI Servizi, ringraziare la Bebox, il maestro Stefani. Come sempre, viva la box alla prossima occasione che sarà sabato e domenica prossima con le VBL. Quindi da Pompei seguiremo le VBL. Daremo da Cerno è davvero tutto. Buon rientro a casa a tutti.